questo programma è offerto da se hai un frigo che non funziona ti prego non rischiare vieni da noi a farlo cambiare da specialisti con rapidità frigoriferi da incasso forni da incasso piani di cottura e lavelli di tutti i colori lavastoviglie da incasso FBA di Bruno, corso potenza 183 Torino, se hai un frigo che non funziona vieni da noi a farlo cambiare ladies and gentlemen BAH! 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 Grazie a tutti. 11 giugno 2018, un saluto da parte di Eric Anzerri, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il podcast ufficiale di TuttoWrestling.com intitolato Wrestling Cafè, sono solo dietro i microfoni in questo momento, ma non solo in onda perché abbiamo collegato telefonicamente Mattia Di Noi, buongiorno Mattia. Buongiorno e scusatemi tutti per aver rovinato questa puntata. E' la tua catchphrase d'ora in poi questa? Ormai è la catchphrase, ma poi tra un po' smetteremo di dirla, tanto la gente l'ha capito ormai. Vabbè, lasciamo stare perché non ne usciamo vivi. Allora, ci sono un po' di cose di cui parlare questa settimana, tant'è che... Una cosa non l'ho vista. Ok, che è quale? Perché? Che è punk. Ok, allora cominciamo a parlare subito di punk, perché so che non l'hai vista, ma diciamo che non ti sei perso moltissimo, francamente. No, non c'è, so il risultato perché mi sono svegliato stamattina e sono andato a vedere qual era il risultato. No, io l'ho visto stanotte live, prima di... Allora, mi è andata anche bene perché ho ripreso conoscenza verso le 3.40, ho detto ma sì, non riesco a dormire, guardiamo un attimo un match di punk e poi sono tornato a dormire. Guarda, se rientro alle 4 del mattino come ho fatto il giorno prima, l'avrei guardato in diretta. Sì, no, non ti sei perso molto, dicevo che non ti sei perso molto, perché comunque il match è stato oggettivamente anche dal punto di vista tecnico abbastanza imbarzante, nel senso che... Guarda, ti dico quello che mi è stato detto adesso da Emilio, perché ero qua a Lodi... Ah, l'ha visto, l'ha visto Emilio il match, sì, di punk. Sì, e mi ha detto queste parole. Sì. Anche il commentatore a un certo punto non poteva nascondere che era una farsa e gli ha detto di stare in piedi per quella... Sì, gli hanno detto, sì, Joe Rogan neanche in modo troppo nascosto ha detto questo qua è pagato per far arrivare si in punk alla fine. Cioè l'ha proprio detto nemmeno in modo velato, tra l'altro, quello che pensavano tra l'altro in molti. Però, come posso dire, però il... come si dice... è una cosa farlo dire, diciamo, i tuoi commentatori ufficiali. Cioè, sentirlo dai tuoi commentatori ufficiali, perché comunque Rogan, John Ennick e Jimmy Smith sono pagati dalla UFC, sono i commentatori ufficiali. Cioè, ovviamente non è una cosa come la WWE dove c'è Vince McMahon in cuffia che gli dice cosa dire, però di fatto sono dipendenti della compagnia e quindi portano avanti comunque la linea ufficiale della compagnia. Dana White ha avuto parole assolutamente al miele dopo il match. Sia nei confronti di CM Punk che nei confronti di Dana White, scusa, di Mike Jackson. Le più belle sono quelle di Michael Jackson, credo che potremo ascoltarle tra qualche minuto, appena le ritroverò, perché le avevo sentite prima ed erano poco prima di venire in onda ed erano assolutamente notevoli. Dicevo, è stato un incontro assolutamente, dal punto di vista tecnico, assolutamente imbarazzante, perché comunque Punk non deve stare in una gabbia, semplicemente, in questo momento. Non ha la preparazione adatta, anche, soprattutto dal punto di vista atletico, l'ho visto veramente male. L'ho visto male, 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 male. Diciamo, lui non è mai stato atleticamente, parlo di puro atletismo, come posso dire, un fenomeno. Anche in WWE, cioè, dal punto di vista puramente atletico, non è mai stato un fenomeno. Era un grandissimo entertainer, però è un grandissimo performer. È un grandissimo performer, dal punto di vista atletico, diciamo che non è mai stato un fenomeno. Eccolo qua, ho trovato le parole su Mike Jackson. No, è sempre un buon performer e ha avuto anche dei match comunque eccezionali, perché comunque il match da 60 minuti con Joe e quello da Chris Zero da un'ora e mezza, comunque il cardio ce lo devi avere. Esatto, esattamente. Però è uno sport completamente diverso. Però, esatto, uno sport come l'MMA, per uno sport come l'MMA il cardio di punk è praticamente non esistente. L'avversario, tant'è che dopo un round era completamente andato dal punto di vista, diciamo, delle energie. Era totalmente, totalmente spompo. L'altro, diciamo, non era da meno da quel punto di vista. Cioè, era un po' meglio dal punto di vista del cardio, perché comunque era ovviamente più preparato, ma dal punto di vista tecnico assolutamente parliamo di un fighter amatoriale. Dicevo, Dana White ne ha parlato benissimo di Mike Jackson nel post-match, possiamo credo ascoltare l'audio. Dicevo, con Mike Jackson, diceva che voleva combattere Artem Lobov. Voleva combattere a 155 e combattere Artem Lobov. C'è nessun scelto di Mike Jackson di avere un altro combattimento in la UFC? Artem potrebbe uccidarlo. Questo potrebbe essere la prima morta in la UFC. Credo che sia una buona combattia per Michael Jackson. Credo che Michael Jackson deve tornare a essere un reporter o qualcosa che ha fatto prima che si è venuto e si è riuscita. Ecco, ne ha parlato bene, direi, Dana White. La traduzione letterale, perché Mike Jackson ha chiesto l'incontro con Artem Lobov, che è uno dei fighter più interessanti, a 155 libri, e Dana White ha detto testualmente, Artem Lobov lo ucciderebbe. Sarebbe la prima morte all'interno della UFC, perché purtroppo ci sono... A me ha fatto ridere, se ho capito bene, quando ha detto potrebbe essere la prima guest star in assoluto della storia della UFC ed è meglio che torni a fare il giornalista... Sì, potrebbe essere la prima morte all'interno di un evento UFC, ha detto proprio letteralmente, e ha detto sì, è meglio che torni a fare il giornalista. Perché lui è un fotografo, lui è un fotografo di... Cioè, era un... prima di cominciare a fare il fighter, era un fotografo, ed è ancora un fotografo, lo si vede spesso, tra l'altro. Ha fatto anche il fotografo per eventi UFC. È stata... non credo sia stata una farsa, però la sensazione è che comunque Jackson... Jackson... no, ti spiego, Jackson avrebbe potuto finirlo quando voleva, e non l'ha fatto. E non l'ha fatto perché non l'ha voluto fare, molto semplicemente. Penso che sia anche oggettivo anche dalle parole di Dena, che comunque è una farsa, è stata una farsa. Non vogliamo dire che... cioè, anche Dena la considera una farsa, oggettivamente questa cosa. Più che una farsa lo considero un imbarazzo dal punto di vista puramente tecnico, perché questo incontro è stato nella main card del pay-per-view per due motivi. Uno, erano a Chicago. Due, di fatto CM Punk è uno dei personaggi più... l'ho detto anche Alex Dunn in Telecronica, su Fox. Di fatto CM Punk è il personaggio mainstream più grosso che avevano nella card, se andiamo a vedere. E comunque parliamo di un evento che, se va bene, farà 200-250 mila acquisti, perché comunque... perché non stiamo parlando di numeroni eccezionali, però, di fatto, il motivo è quello. Però è un esperimento che dopo ieri non puoi più ripetere, assolutamente. No, no, non penso. Punk non lotterà mai più io, sì. No, no, sì, infatti, infatti, infatti. Cioè, potremmo vederlo in Bellator, quello sì. Secondo me il Bellator, un'opportunità punk, penso che potrebbe anche dargliela, però... Anche perché i Bellator sono famosi per i loro freak show. E infatti, infatti, assolutamente. Ma parla del circolo di freak show. Esatto. Nel senso che... con tutto... No, sai cosa? Più che di freak show, sai cosa mi dà l'idea? Mi dà l'idea delle persone ricche che vogliono cominciare a lottare. Cioè, persone annoiate che non sanno cosa cazzo fare nelle proprie giornate. E' detto, ma sì, andiamo a farci menare in UFC, cioè... E' la trama di Friends, del fidanzato di... E' la trama di Friends, esatto. E' la trama di Friends, del fidanzato di uno dei fidanzati di Monica, a un certo punto, sì. Io, 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 io... Allora, io, nel momento in cui inizio da farlo, io ho pensato al fidanzato di Monica in Friends. Sì, se ci pensi, se ci pensi, non è tanto lontano, eh. Non è tanto lontano, effettivamente. La cosa che vuoi dire è che il fidanzato di Monica in Friends fa un incontro in UFC. Esatto. Contro, tra l'altro, un ex wrestler da WCW. Io, perché era Tank Ebot, era Tank Ebot, esatto. Era Tank Ebot, il primo incontro. No, questo mi ha sempre... Almeno, almeno guardiamo il lato positivo di Punk. Sì. E Jay non l'ha lasciato. No, esatto. Nel tre dei tuoi incontri. No, no, no. Perché Monica lasciava... Sì, dopo... Beh, grazie, veniva coperto di mazzate, quindi... No, è un esperimento, l'ho detto... Dana ha parlato, diciamo, di Punk anche nel... Oltre che di Mike Jackson ha parlato anche di Punk nel, diciamo, nel confronto dei giornalisti post-evento. Ha detto testualmente, cioè, basta. È un esperimento, credo che l'esperimento, diciamo, sia da chiudere, assolutamente. Adesso vado a cercare proprio testualmente le parole. I think that's a wrap, ha detto. Ecco. Ha detto... Sì. Penso una cosa. Io penso che... Allora, quando è avvenuta la firma del contratto con Punk, Dana abbia... Si sia fatto delle aspettative che non doveva farsi. Sì. Perché comunque quando l'hanno presentato in pompa magna... Sì, durante un pay-per-view. Vai. The next big film, cioè, sembrava che dovesse essere... No, vabbè, The next big film no. Però effettivamente fu presentato in pay-per-view perché comunque era un personaggio alla fine. Gli ha dato più credito di quello che avrebbe dovuto essere. Probabile. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Il problema è che poi si sono ritrovati con questa fatta da volenti di avergli fatto firmare un contratto per due match. Sì. E... Si sono ritrovati... Il primo match Punk ha avuto la... Sì, che poi... Infatti i contratti di UFC sono più match, però se fai cagare al primo puoi anche... Sì, sì. Puoi anche essere tagliato senza problemi. No, Punk... Punk ha avuto la fortuna... Ha avuto due fortune in realtà. Punk ha avuto la fortuna che... È stato un buon draw il pay-per-view dove l'aveva buttato. Sì. E quindi non per qui ne è andato, va bene, è comunque un draw. Secondo, ha avuto la fortuna di essere l'unissimo grande draw che potrebbe avere la UFC in questo momento. Perché non ci sono altri personaggi. Sì, sì. Diciamo, l'unico no... Alla fine... Alla fine... La parola draw per CM Punk è anche... E anche, diciamo, se vogliamo esagerata perché comunque i veri draw che alla UFC sono di fatto Conor McGregor, George St-Pierre e pochi altri. Anzi, credo basta praticamente in questo momento. Due nomi, due nomi... Eh beh, John Jones anche, giusto, però. John Jones ha leggeri problemi legali e leggeri problemi anche con l'antidoping. Il problema è che, appunto, mancano i personaggi e combinazione per trainare una card a Chicago Si è optato per mettersi un punk nella main card e lasciare fuori personaggi come Alistair Overim Che, ok, ha fatto anche non benissimo per usare un eufemismo nella card preliminare di UFC 225 Però, esatto... Però, è oggettivamente più meritevole. Cioè, Overim, tra l'altro, ha perso per KO tecnico, tra l'altro. Quindi, comunque, anche lui è in fase abbastanza calante. Però parliamo... Nella card preliminare è finito un match tra il... Che è Overim... 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 Con Curtis Blades. Con Blades, che è il numero 4 del ranking. E Overim è il numero 2. Cioè, mi sembra una cosa abbastanza... Mi sembra assurda. Quali comunque di un tizio che ha speso Brock Lesnar. Sì, poi si può parlare, diciamo, di Brock Lesnar nelle condizioni in cui era nel match contro Overim. Però, effettivamente, Overim ha speso Brock Lesnar. Certo, assolutamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non l'ha speso in un match di wrestling, l'ha speso in un match. L'ha speso nell'ultimo match di Lesnar, prima di quello con Malcanta. Cioè, la situazione della UFC a livello di DRO è abbastanza, diciamo, abbastanza bizzarra, mettiamola così. Ma è anche uno dei motivi per cui Fox ha puntato a fare la vita più vecchia su di loro. Può essere, può essere quello. Ho ritornato intanto le parole di Dana White nella conferenza stampa su Punk. Sì, no, probabilmente, deve essere un wrap, you know? The guy's 39 years old. I love the guy, he's the nicest guy in the world. We gave him two shots, you know? And he had a lot of heart tonight in this fight. And, yeah, I think you should call it a wrap. Sì, ha detto, dovrebbe smetterla. Cioè, proprio, letteralmente, you should call it a wrap. Ha detto che, ha detto che, praticamente, ha 39 anni, una delle persone più gentili che si può trovare al mondo. Gli abbiamo dato due opportunità, ha mostrato molto cuore stasera, però, dovrebbe finire, dovrebbe appendere i guantini al chiodo. Il problema, il problema, il problema, sai qual è il problema? Che non credo lo farà. No, neanche io. Non credo lo farà. Cioè, ha detto una cosa, una cosa sensatissima, che dovrebbe essere sua moglie a guardarlo in pace di quei risultanti, di quelle papagne in testa stasera. Eh, ma anche lì, anche lì, non credo lo farà. Non credo lo farà. Sai qual è il problema? Una cosa che, comunque, fa pensare, fa pensare a tutta questa cosa qua, tutta questa cosa. Spike, quando fece il podcast con Cabana, disse che lui aveva, tipo, un casino di commozioni cerebrali alle spalle, bla 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 e così via. Cioè, qua si sta buttando, praticamente, cioè, se stai dicendo che ti sei ritirato perché ti hai otto le palle di avere le commozioni cerebrali, buona foto. No, beh, si è ritirato, cioè, ha mollato la WWE, più per altri motivi, dovessi dire, più per altri motivi. Però uno è emersi, emersi peraltro nel processo che si è concluso questa settimana, però, però, quindi è un altro discorso. No, che poi, del match di ieri, io non credo che Punk abbia riportato danni cerebrali, però, però, effettivamente, di colpi, di colpi al volto, perché i colpi al volto, alla fine, cioè, la storia di questo match è stata, il fatto, comunque, anche la grande, la grande differenza, diciamo, visiva tra i due, tra i due. Beh, a livello di danni subiti, quantomeno, perché Punk era abbastanza segnato, per usare un eufemismo, al volto, mentre invece, mentre invece, Mike Jackson era abbastanza freschino, anche se abbastanza spompato. Tra i nostri ascoltatori avete Facebook, avete Michael, Percy Plange, tra gli amici, lui ha la faccia di Punk, come immagine il profilo. Sì, esatto, post-match, proprio nel momento della proclamazione. Infatti, è stato portato, è stato portato, anche stato portato in ospedale, per, più che altro per precauzione, non tanto per, perché, credo che fossero danni prevalentemente visivi, non, e non proprio, proprio danni al, 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 al cranio, al, o al cervello, vai. Per fare, per fare un paragone, se avete mai visto Rocky, Rocky era conciato, più o meno così, alla fine del primo match con Apollo. Sì. Quando si diceva, quando ha detto, tipo, taggiami l'occhio, taggiami l'occhio. Esatto, sì. il concetto è sempre lo stesso massima stima per quello che ha fatto perché ha seguito il suo sogno e la sta fanno a termine e tutto il resto ha fatto oggettivamente una cosa per la quale gran parte degli abitanti mi sto incartando dal punto di vista grammaticale ha fatto una cosa che la gran parte degli abitanti della terra non avrebbe le palle di fare oggettivamente perché comunque mettersi in gioco in questo modo ci vanno le palle oggettivamente quindi massimo rispetto detto questo però al stesso tempo dovresti renderti conto che non è una cosa per te è una cosa che stai facendo solo e esclusivamente per mero egoismo in questo momento no più che per egoismo magari no per sfizio alla fine è uno sfizio io capisco che lui è felice di averlo fatto però boh dovresti avere un po' di dignità secondo me in questi casi il problema non è tanto non è neanche la dignità finché trovi gente disposta a darti un'opportunità cioè lui va avanti giustamente perché comunque è la cosa che lo rende felice e il Bellator secondo me è un'opportunità di averlo riguardo riguardo un suo ritorno nel wrestling mai dire mai però a tempi brevi lo escludo categoricamente allora io io ho sentito il podcast non ho sentito quello di di cabana ok comunque l'ultima puntata quello dove parlavano ha fatto ha fatto diversi ha fatto diverse interviste punk in questi ultimi in questi ultimi giorni su TSN quella di cabana che ha detto al wrestling con Brian Alvarez ha detto cabana ha detto una cosa hanno fatto un discorso che allo stesso tempo era molto bello da una parte ma molto triste dall'altra perché Alvarez non mi ricordo come è venuta fuori cabana disse io e lui abbiamo debutato nello stesso giorno nello stesso periodo 19 anni fa io sono 19 anni che amo il mio lavoro e continuo ad amarlo sempre di più quello che faccio lui in questi 10 anni è arrivato a odiare tutto quello che faceva è triste comunque come cosa perché vuol dire che una cosa che ha una passione forte è diventata una cosa che lui odiava è tristissima come cosa è molto molto triste lui odia lui odia proprio il mondo del wrestling non ce la fa più e diciamo il mondo del wrestling è vero che adesso è abbastanza ampio diciamo più che odia il mondo del wrestling è arrivato a odiare il mondo del wrestling perché principalmente lui è arrivato a odiare la WWE perché comunque lui in WWE diciamo che si è trovato maluccio per usare per usare neufemismo perché c'è anche da dire una cosa poi sono successe cose diciamo anche sul piano personale lavorativo che comunque sono sono comunque abbastanza hanno sicuramente influito vedi questa causa c'è anche da dire una cosa una cosa una cosa c'è anche da dire una cosa si è vero però comunque rispetto a tanta altra gente lui è stato trattato con i guanti con i guanti vero verissimo 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 che probabilmente merita anche adesso merita molto di più di quello che ha avuto e di quello che ha verissimo verissimo c'è gente in WWE che ha fatto figure di merda su figure di merda e gente invece che è sparata alle stelle come se fosse che non merita nulla vero vero vabbè però diciamo che la meritocrazia in WWE ma nel mondo del wrestling in generale e anche negli ambiti lavorativi diciamo che lascia un pochettino il tempo che trova nel senso che assolutamente specialmente nell'ambito WWE puoi essere il lottatore più grave del mondo ma se al pubblico non interessi puoi andare avanti cioè faccio un esempio faccio un esempio Shelton Benjamin è un lottatore fenomenale secondo me il problema è che non ha il carisma di un comodino e quindi purtroppo non andrà mai oltre un certo livello in WWE ma assolutamente ma c'è per dire c'è tanta gente che comunque ha le capacità per fare bene è lo stesso il ragionamento è il ragionamento Rusev c'è tanta gente che ha le capacità per fare molto di più in WWE che potrebbe essere in posizioni molto migliori dove stanno però non vengono sfruttati dall'altra parte dall'altra parte hai per esempio il paradosso Ginder Mahal per esempio Ginder Mahal che è lì esclusivamente per motivi geografico economici esatto esatto per dire Punk può lamentarsi che non ha mai avuto il mini event di Wrestlemania ma Punk comunque è stato trattato con i guanti soprattutto nell'ultimo periodo nell'ultimo periodo non aver cioè nel periodo tra Wrestlemania 27 periodo 6 7 così via posso capire la frustrazione ma Tamolin in the Bank 2011 cioè lui lo ha detto io credo lo ha anche detto in passato diciamo il vero motivo cioè il motivo principale al di là della questione della questione diciamo di questa gobba che lui si è che questo lamp in inglese questo rigonfiamento che lui ha portato poi in tribunale come diciamo come prova diciamo per la causa che Aman gli ha intentato contro e l'ho detto anche cioè lui diciamo la causa scatenante di tutto questo astio probabilmente è il Wrestlemania cioè lui il fatto di non aver mai fatto il main event di Wrestlemania una cosa che lui proprio l'ha presa sul personale questa cosa secondo me è brutto da dire una cosa brutta da dire una cosa di questo tipo però è evidentemente quello che quello che quello che ha fatto mi sa che abbiamo perso il collegamento con con Mattia sì perché non ci sta ascoltando più allora lo riprenderemo tra qualche istante abbiamo ritornato Mattia eccolo qua di nuovo in collegamento telefonico dicevo la questione la questione di Punk è la questione di Wrestlemania cioè lui il fatto di non aver fatto il main event di Wrestlemania l'ha preso veramente sul personale è brutto è brutto da un lato però quando quando ti fissi su una cosa quando ti fissi su un obiettivo riesci e poi lo fallisci per cause che non vedi magari cioè per causa che non ritieni tu e poi le reazioni possono essere possono essere le più disparate e si è arrivati a questa situazione della causa abbiamo parlato abbastanza durante il durante il cioè in realtà non l'abbiamo parlato perché comunque non c'è molto da dire perché comunque alla fine alla fine è stato come tutti i processi è stata una serie di come posso dire una serie di testimonianze contrastanti l'una con l'altra molto semplicemente il problema il problema per Rahman è che questo era un processo a giuria e quindi lui con la richiesta finale di 3 milioni 900 e cos'è 4 milioni di dollari praticamente non ho capito tra l'altro perché ci sono due cose sono due due tesi discordanti se 4 milioni in totale o 4 milioni per capo d'accusa quindi 40 milioni di dollari praticamente non si capisce ecco quindi non si capisce diciamo che ma già 4 milioni è tanto probabilmente allora per come ne stavano parlando nell'intervista con Cabana erano 4 milioni a destra io ho capito 4 milioni 4 milioni per 10 perché erano praticamente 10 tipo i capi d'accusa praticamente di questo quindi in totale Cabana parlava di tipo 40 milioni di dollari cosa che non avrebbe probabilmente mai avuto ma anche 4 milioni sarebbero stati probabilmente tanti per Cabana no ma allora più che altro il problema del processo è che probabilmente quello che ha fatto prendere poi anche la bilancia su su Punk dalla parte di Punk e di Cabana è che si basava completamente sul nulla sì nel senso che più che sì infatti perché comunque nessuno dei due alla fine perché anche Punk alla fine la testimonianza di Punk non è stata non è stata granché diciamo dal punto di vista legale però siccome siccome diciamo nel sistema americano ok tu fai o in questo caso nel processo giuria tu fai l'accusa sei tu che devi portare elementi a tuo a tuo vantaggio non è stato così non è stato assolutamente così il vero problema il vero problema è che comunque come si chiama Aman 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 Dottor Aman Chris Aman 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 cioè lui li ha denunciati per difamazione sì però lui lavora solo con la WWE esatto no più che per difamazione perché la tesi sua era che questa questa cosa lo aveva danneggiato praticamente sul piano lavorativo il problema è come dici tu lui lavora per la WWE non ha altri clienti al di fuori della WWE cioè non ha avuto impatti quando gli hanno fatto la domanda quando gli hanno fatto la domanda Mike Rester ti vede in un'altra maniera adesso no 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 assolutamente no quindi 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 non diciamo non ha avuto cioè la quantificazione del danno dal punto di vista economico dal punto di vista professionale se tu non riesci a farla non hai un caso alla fine in questa situazione con tutte che comunque la testimonianza di Punk non è esente da diciamo non è esente da Buki cioè il fatto che lui sia andato da questo dottore che poi alla fine non era un dottore ma era un dermatologo era un dermatologo sì questo Patrick Bateman consigliato tra l'altro da sua moglie da Patrick Bateman chi era? quello di American Psycho? no non mi ricordo se era Patrick Bateman sì no sai cosa si chiamava Patrick Duffy ma lui lo chiamava Patrick Bateman perché assomigliava a quello di American Psycho cioè c'è stata un po' di po' di confusione all'interno o il contrario adesso non ricordo comunque sì diciamo che non è stato un grandissimo processo dal punto di vista dal punto di vista degli elementi alla fine quindi si è arrivati con la giuria sai che va a finire in questo modo cioè diciamo si è risolto per il meglio esatto si è risolto per il meglio per cabana poverino perché comunque si è trovato in mezzo semplicemente per aver dato spazio a banca alla fine cioè lui poverino avrebbe dovuto pagare forse avesse avuto torto 4 milioni di dollari per di fatto cose dette da un altro che assurdo che assurdo però è la persona con cui non ha neanche più un rapporto esatto che assurdo però però da un certo punto di vista è anche logico perché comunque se diciamo se io sono direttore di un giornale ospito un articolo praticamente di un mio di un mio di un mio sottoposto di un articolista di un giornalista pieno di calugne chiaro viene denunciato per informazione chi fa l'articolo ma vengo denunciato anch'io direttore perché ho dato spazio comunque a questa persona è la logica dell'informazione alla fin fine è un po' è un po' quello che succede diciamo ai giorni un po' quello che succede ai giorni nostri con questi nuovi media se io se in un podcast ospito una dichiarazione incendiaria di una persona poi ci vado di mezzo anch'io infatti mi sembra strano che nessuno abbia ancora denunciato la zanzara per esempio però probabilmente ci arriveremo da quel punto da quel punto di vista secondo me gli hanno denunciato ma non lo sappiamo può essere può anche essere effettivamente può anche essere vabbè comunque no per quanto riguarda Punk e la UFC l'esperimento credo debba finire qui perché comunque non c'è non c'è possibilità che migliori la situazione per Punk in altre compagnie MMA potremmo rivederlo se lui se lui diciamo ha la voglia di ha la voglia di restare praticamente ha la voglia di continuare con questo esperimento sì anche secondo me ha voglia e non penso lo vedremo nel mondo del wrestling a tempi cioè c'è già chi dice eh lo vedremo all in premettendo che non penso che lo vedremo che lo vedremo che lo vedremo a all in per due motivi uno per diciamo le parole che ha detto le parole che ha detto Punk sul mondo del wrestling in generale due oggettivamente non ce n'è bisogno perché comunque quell'evento è sold out quindi non non ne hanno oggettivamente bisogno di spingere CM Punk per questo evento se mi dici lo posso prendere in considerazione per un eventuale all in due ok quello sì però non credo lo vedremo all in non credo lo vedremo all in non credo neanch'io io penso che non lo vedremo più mai dire mai mai dire mai mai dire mai però mi dà l'idea di essere di essere di essere quello che rimane fuori proprio totalmente o magari magari poi ti ritornano tra 10-15 anni per fare qualcosa tipo beh la Hall of Fame non credo la Hall of Fame non credo però cioè non lo so dipende il tempo poi guarisce tutte le ferite però vediamo vediamo che succede ti dico questo mi baso sulle parole comunque di Corey Graves che non ha avuto delle belle parole no anzi tutt'altro tutt'altro Graves ha detto Graves poi non so se sono vere tutto il resto perché ovviamente non si può mai sapere Punk è stato il primo a vedere sua figlia che avevano un rapporto molto stretto e lui ha detto lui non mi parla più per le persone che mi danno un lavoro si lui ha praticamente detto che Punk non lo considera più l'amico perché lavora per la Davide molto semplicemente esatto quindi mi dà l'impressione Punk di essere una persona molto rancorosa e che quando dice una cosa la ha più che rancorosa aggiungerei anche forse un po' troppo paranoica se vogliamo perché comunque ti ricordi la sapete la storia di Ors Wagon su CM Punk no Ors Wagon era amico di CM Punk Ors Wagon Dylan Post il lottatore che tra l'altro abbiamo rivisto da non molto alla grande storia di Rubble praticamente Punk lo ha tagliato fuori dagli amici perché praticamente Ors Wagon gli ha chiesto un numero di telefono di una persona e Punk praticamente lo ha tagliato fuori perché dicendo mi stai sfruttando solo per ottenere quello di cui hai bisogno siamo alla paranoia più totale poi vedete chiaro sono le parole di Ors Wagon però contando che di cose del genere su Punk se ne sentono anche da diciamo da altre persone vedi questa per esempio di Corey Graves non faccio fatica a credere che sia non faccio fatica a credere che effettivamente lui sia una persona abbastanza paranoica da quel punto di vista che è brutto è molto brutta è molto brutta come cosa però ognuno ha il diritto di dire la propria vita naturalmente ci mancherebbe assolutamente passando a cose più liete fortunatamente parliamo di Dominion anche se non abbiamo la nostra inviata dal Giappone quest'oggi perché ha fatto 5 ore di diretta ieri ma ci sono io è stato un evento terribile buonasera Renato Zero come mai da queste da queste parti non dimenticami ecco sì vabbè grazie hai un po' del Renato Zero effettivamente Roscini ecco perfetto grazie molto bene allora parliamo di parliamo di Dominion premettendo io ho visto i tre match principali ok cioè il titolo il titolo in diretta ok e il main event è recuperato stamattina ok cominciamo dal main event cominciamo dal cominciamo da Okada contro Omega allora io non so io non so io non so se questo sia il miglior match che io abbia mai visto è sicuramente lì in alto questo questo sicuramente perché comunque parliamo di due di due fenomeni oggettivamente di due fenomeni che hanno fatto un match di 68 minuti più più interruzioni no 64 credo la durata la durata ufficiale più più allora era un'ora e nove poi c'erano due minuti di intermission a caduta sì siamo intorno ai 64 minuti alla fine praticamente di match che hanno fatto un incontro fenomenale hanno fatto veramente un incontro fenomenale e non era facile non era assolutamente facile perché le aspettative erano altissime innanzitutto e poi era un incontro al meglio delle tre cadute che doveva durare più di un'ora quindi quindi hanno fatto veramente un capolavoro dal punto di vista della storia del dramma del dramma anche sportivo perché ovviamente dramma è una parola che userei per altre cose però dal punto di vista del dramma sportivo hanno fatto veramente qualcosa di impressionante assolutamente impressionante penso che allora neanch'io lo considero il più bel match di wrestling che abbia mai visto ma per altri motivi perché comunque anche a livello affettivo ci sono match che mi hanno coinvolto molto di più ok va bene oggettivamente come sempre aspetta un attimo vai vai tranquillo vai tranquillo come sempre per dire il mio match preferito è rimanere sempre quello che ho visto da resta il media 30 ma perché ok vabbè perché eri anche lì naturalmente è una cosa diversa ovviamente certo però c'è da dire una cosa questo è probabilmente uno dei match del decennio assolutamente e tra l'altro la cosa la cosa sai quella la cosa incredibile è che comunque abbiamo quattro match di questa quadrilogia praticamente tutti dei capolavori o comunque tutti dei grandissimi match quanto meno perché comunque abbiamo il match di Wrestle Kingdom che è un mezzo capolavoro il match Dominion dell'anno scorso che è ancora meglio quello del G1 Kleinex si può dividere però per essere un match da quasi mezz'ora è un match fantastico e poi è questo per quello che hanno fatto è stato un match troppo corto e con troppa roba ok però c'erano molti motivi diciamo a livello di storia ci stava perfettamente come ci sta perfettamente alcune cose che hanno fatto ieri per esempio molte cose che hanno fatto ieri in realtà Dominion diciamo a livello di storia questo è il culmine di un anno e mezzo di un anno e mezzo di quattro match perché comunque ci sono rimandi a tutti e quattro match se andiamo a vedere all'interno all'interno di questo match ed è impressionante io mi sono reso conto di una cosa io non sono una persona a cui piacciono i match lunghi sì cioè se già il match mi va oltre la mezz'ora inizia a rompermi le palle poi dipende anche dove li guardi i match perché se tu mi dici assolutamente un match da mezz'ora oltre a mezz'ora magari in WWE ti posso avere ragione in altri già in New Japan dipende chi lo fa però per dire ad esempio io quando mi dici che un match di Okada è durato 50 minuti ti rispondo ok va bene non ciò sbatti sì perché sono così dopo un po' è questione di gusti è questione di gusti questo l'ho visto tutto e mi è passato bene perché non ha avuto tempi morti la grande differenza tra WWE dicevo la grande differenza tra WWE e New Japan è la gestione dei tempi New Japan dal punto di vista della gestione dei tempi è fenomenale assolutamente fenomenale ieri siamo stati in diretta ieri sabato praticamente siamo stati in diretta dalle nove fino alle due cinque ore di show contando anche la conferenza stampa post match che hanno fatto vedere su un JPW World ma è passata benissimo e non c'è stata interruzione non c'è stato un intermission tra a metà show praticamente ci sono andati filati fino dalle nove all'una all'una e mezza più o meno qualcosa del genere non si sono fermati ed ero molto meno stanco alla fine pur avendo parlato per praticamente cinque ore di quando guardo alcune puntate di Raw al di là dell'orario delle puntate di Raw però le puntate di Raw passano molto peggio la gestione degli show del ritmo degli show della New Japan è incomiabile perché comunque loro sono dei maestri comunque in New Japan raramente soprattutto anche negli show più grossi e soprattutto quando arrivi alla fine ti becchi un match brutto sì ma poi ma poi costruiscono anche nel senso loro anche l'ordine dei match e tra l'altro l'ordine dei match loro lo annunciano prima quindi sanno già praticamente cosa fare però tutto c'è tutto che gli show della New Japan costruisce il main event nel senso la gestione si inizia con i match morbidi alla fine che non sono fenomenali ma non sono neanche brutti e poi si va a salire si comincia a salire con i match gradualmente più importanti e poi c'è il culmine col main event e lì veramente anche ieri anche Dominion è uno show diciamo non so neanche come descrivere è uno show che comunque è salito di livello gradualmente perché comunque hai avuto i tuoi match i tuoi match diciamo iniziali i classici tag team match six man tag team match dove comunque non è successo moltissimo però comunque hanno già costruito cose per il futuro poi abbiamo avuto il match il match di coppia con Julius Robinson e David Finlay con Julius Robinson che ha schienato Jay White poi hai avuto il match dei Bucks è stato molto bello o comunque bello poi hai avuto il six man tag team match quello con Jushin Lager e Rami Stiero poi hai avuto Takashi poi hai avuto Naito contro Gerico e poi hai avuto il main event cioè si è andati gradualmente a salire in modo peraltro totalmente organico cioè in modo assolutamente lineare e assolutamente perfetto assolutamente Dominion come show adesso poi magari tu non so se lo guarderai tutto Dominion comunque Dominion come show secondo me quest'anno si mangia il Tokyo Dome proprio a a mani bassissime e Tokyo Dome non è stato male però però questo a livello di gestione a livello di match e soprattutto di match più importanti nettamente meglio questo lo show lo show dell'anno a mani bassi secondo me a momento che Don non era piaciuto ok va bene però ti dico a momento che Don non è spiaciuto però capisco chi dice che magari globalmente possa essere stato meno bello rispetto ad altri come avevamo detto altre volte è stato meno bello di Alpia questo lo show dell'anno secondo me fino a questo momento poi si può discutere se è meglio questo o Takeover New Orleans ma sono anche due show diversi questo è durato 4 ore e mezza quindi è un'altra cosa però posso già accettare una discussione di questo tipo come show come mega show diciamo questo è lo show dell'anno a mani bassissime scusa sì ho disco d'aperto sì sono su disco ok adesso sto arrivando su disco vai tranquillo aspetta che tanto parliamo da qua poi appena mi stiamo vai tranquillo vai tranquillo no c'è il discorso per tornando al main event ripeto questo è stato il culmine di vabbè Meltzer ha già praticamente preannunciato le sette stelle diciamo che è la sua opinione ma lo capisco anche però ha avuto parole ha avuto parole veramente non so se hai sentito il podcast di stamattina ha avuto parole assolutamente di lode 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 per questo per questo match praticamente ha detto cito testualmente vado a prendere diciamo la trascrizione sono convinto di questo credo di aver visto i due più grandi vestiti al mondo oggi con la loro più grande performance nella stessa serata nello stesso match che ha portato al climax due anni di storia e che ha finito il più grande regno titolato da decenni tutto lo stesso tempo non male direi direi non male come inizio sono assolutamente d'accordo col Meltzerone lo stavo ascoltando tra l'altro stamattina bello che chiudo chiudo la comunicazione telefonica se non abbiamo ritornato dicevo mentre andavo a Lodi lo stavo ascoltando Meltzer e ha anche detto tra l'altro che dopo gli altri match era convinto di aver visto il miglior match nella sua vita però sapeva che un giorno quei match sarebbero stati battuti stavolta non ha questa sensazione questo è quando questo è finito il mio primo pensiero è stato questo è il miglior match che vedrò probabilmente poi magari magari vi rimetti contro ti fanno ancora un altro capolavoro perché comunque Omega Omega Okada un rematch ce l'avranno bisogna vedere quando alla fine quando sarà questo rematch perché a questo punto col fatto che Okada non è più campione che Omega è il campione le strade per il Tokyo Dome sono comunque diverse come sempre Okada vince il Climax tu dici che Okada vince il Climax hai diverse strade puoi avere magari allora se Okada vince il Climax puoi fare Omega Okada di nuovo al Tokyo Dome come rematch perché comunque è un match che tira l'abbiamo visto con l'abbiamo visto con Dominion ha sold out con 24 giorni in anticipo quindi comunque è un match che tira Omega Okada Naito a sua volta potrebbe andare benissimo se Okada mettiamo a caso Okada vince il G1 ma Naito vince il titolo da Omega prima del Tokyo Dome hai Naito Okada il rematch di Urestakino l'anno scorso con Naito con Naito che però si presenterebbe da campione in questo momento Naito però probabilmente non ha finito con Jericho quindi dobbiamo vedere come si evolve anche questa o magari fai di nuovo Naito contro Jericho al Tokyo Dome no secondo me potrebbero fare un'altra cosa potrebbero allora potrebbero vedremo vedremo poi come si evolve la cosa naturalmente sto facendo sto facendo fantabooking sì allora potrebbero probabilmente non si avverrà niente di quello che sto dicendo però allora vabbè Naito vincerà il titolo da Omega e fanno Naito Okada al Dome poi fai Tanashi Jericho al Dome per il titolo intercontinentale e Omega e Cody fai il blow off della fight tra Cody e Omega lo fai al Dome così senza io credo che Omega Cody lo vedranno molto prima allora io al Cow Palace sono allora è vero che potrebbero fare Cody Omega al Cow Palace però che possano fare un 4 contro 4 Golden Elite contro Cody e i suoi anche perché no non lo metto non lo escludo certo va benissimo secondo me allora è vero che può essere un match che può venire in America però secondo me potrebbero tenerselo per un paper in Giappone vediamo va detto che Cody ieri quando è uscito è stato bello fischiato dal pubblico di Osaka quindi sta pian pianino andando molto over anche in Giappone quindi dobbiamo anche tenere conto di questa cosa dobbiamo anche eventualmente tenere conto di un eventuale Omega Contribushi al Tokyo Dome per esempio perché comunque ok adesso la Golden Elite è riformata ma chi ci dice che i bushi non vinca il G1 per esempio non sappiamo questa non sappiamo cosa potrebbe accadere da qui da qui a da qui a gennaio ci sono diverse strade ci sono diverse strade comunque alla fine col senno di poi ci tocca ci tocca riconoscere che comunque tutte le mosse che ha fatto la New Japan a livello di a livello di gestione del booking hanno comunque funzionato perché comunque hai cioè hai avuto il culmine di questo anno e mezzo praticamente con Naito che perde il Tokyo Dome Omega tutta questa gestione del Bullet Club questa guerra del Bullet Club Omega che non vince lo scorso anno e poi alla fine il culmine il pareggio di Dominion nello scorso anno la vittoria del G1 ed è tutto servito per arrivare a questo a questo momento di Dominion quindi a livello di gestione a lungo termine tanto di cappello alla New Japan perché comunque ha fatto un ottimo lavoro adesso vediamo come si prosegue un'altra cosa di cui dobbiamo che dobbiamo tenere conto a livello di interesse perché comunque è stata una mossa molto interessante è la vittoria di Gerico del titolo intercontinentale che se ti ricordi io non avevo escluso il 100% no no tu non l'avevi escluso io ci credevo poco però vabbè vediamo è evidente che Gerico resta che Gerico resta in New Japan bisogna vedere quale sarà la prossima bisogna vedere se lo vedremo al Kaopala secondo me sì secondo me lo vedremo al Kaopala direi che il titolo di più grande campione intercontinentale di sempre del mondo se l'è preso lui ormai anche se De Mitz gli supera il record povero Mitz dice Mitz io sono il più grande campione intercontinentale Gerico dice tienimi il bicchiero un attimo esatto hold my beer e ne ha bevute diverse giudicando il fisico di Gerico tutt'altro che è perfetto però performance notevole non so cosa ne pensi te vai personalmente non un match eccezionale no però non un match brutto il discorso è che dovevano per forza buttarlo su qualcosa di diverso perché un match tecnico non potevi farlo perché comunque c'era già Takashi contro Takashi contro Osperi per il titolo junior e avevi comunque già gli 60 minuti di Omega quindi dovevano buttare per forza in Rissa anche per la rivalità che hanno avuto praticamente i due e quindi l'hanno buttata con Gerico che assalta Naito prima del match e poi di fatto fanno un nuovo disqualification match con l'arbitro che si addormenta alla fine perché comunque la gestione del match è stata comunque quello ed è anche qui se vogliamo il primo capitolo perché comunque Gerico vince il titolo ultra sporco con Naito e adesso proseguirà il prossimo credo che Gaupalas ci sarà difendere a titolo contro Evil mi sembra la prossima la prossima e comunque con Naito non è finito quindi si tornerà lì bisogna capire questa cosa perché lui aveva sempre detto che in America non lottava per nessun altro che non sia la Davide Abbey vero vero quindi vediamo se arriva il Capalas se no magari potrà apparire alla finale del G1 anche la finale del G1 Climax ad agosto anche perché non ci hanno ancora detto chi cazzo c'è il G1 però la finale del G1 Climax difficilmente i titoli vengono difesi il titolo intercontinentale soprattutto perché comunque tutti i papabili per il titolo intercontinentale e il titolo dei presi sono comunque impegnati nel G1 magari se Evil rimane fuori possono venire un po' vediamo magari la finale del G1 l'annunciano praticamente il giorno stesso praticamente il giorno stesso esattamente sì match non eccezionale però gestito bene cioè comunque per lo scopo per gli scopi che si erano prefissi alla vigilia per il tipo di match che dovevano avere secondo me è stato un buon match un altro buonissimo match è stato Takashi contro Osprey Takashi contro è stato un gran bel match meno bella della finale sai cosa molto più sicuro molto più sicuro e aggiungere meno male perché le cose che hanno fatto oddio un paio di spot abbastanza rischiosi tipo il primo spot del match Osprey che prende 20 metri di rincorsa sulla rampa e si lancia su Takashi mancandolo anche tra l'altro se vedete le immagini però il primo spot del match è stato di fatto quello però bel match bel match molto molto ben lottato sono convinto che i due possono far meglio però piuttosto che cioè piuttosto che vedere rischiare la vita in un match dove praticamente si inventano delle cose assurde con grandi rischi per il fisico meglio avere un match di questo tipo che è comunque un bel match ma con pochissimi rischi dal punto di vista fisico comunque la storia c'era di questo di questo match il finale se vogliamo prevedibile perché comunque dopo due sconfitte l'ospedato l'aveva anche detto venerdì no venerdì scusa martedì alla fine no lunedì era alla fine del best super junior mi hai battuto ti ho battuto già due volte sarà così anche la prossima volta sapevi che andava a finire con Takashi che vinceva ed è anche bello e anche qui anche qui Takashi comunque culmine di una storia di più mesi e anche se vogliamo anche più di un anno perché lui l'anno scorso aveva aveva avuto che era una tagliosciata dominio ma aveva perso se non ricordo male corregimi se sbaglio Takashi sì poi aveva avuto numerosi tentativi per sfidare aveva perso il titolo l'anno scorso proprio contro Osprey sì esatto aveva perso diciamo redenzione per lo scorso anno redenzione per il buon Takashi stanno a vedere la casa sai che credo sì credo perché Osprey aveva vinto il super junior e poi era andato contro i Rom esatto e gli aveva strappato il titolo perché lui l'aveva vinto no 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 Kushida gli aveva aveva vinto l'anno scorso sì aveva vinto l'anno scorso esatto quindi diciamo Takashi non aveva avuto fortuna dominio perché aveva perso l'anno scorso sì cioè anche lui redenzione per lo scorso anno chiaro non contro Osprey però comunque redenzione per il titolo best super junior anche in quel caso se vogliamo perché allora l'ha vinto Kushida l'11 giugno poi l'ha vinto Osprey il 9 ottobre sì Scurl il 5 novembre poi Osprey il 4 gennaio esatto però la storia era che i Romu da dominio in poi non era più riuscito ad avere un match esatto perché aveva tentato più volte di sfidare il campione ma o gli veniva spaccate le dita da Marty Scurl o veniva menato costantemente tant'è che quando poi era riuscito a diciamo per riuscire a farsi aggiungere il 4 gennaio al Tokyo Dome era uscito praticamente come un giocatore di lacrosse con il casco i guanti alle mani aveva imparato dei propri errori e comunque non gli era servito perché aveva perso però aveva vinto un bel super giugno Takashi Takashi se non avete mai visto lottare uno dei lottatori migliori degli ultimi periodi è in un momento di forma assolutamente strepitoso quindi guardatevi i propri match sperando che rischi anche lui meno possibile perché è un altro abbastanza è un altro che rischi abbastanza la propria la propria pellaccia un po' come un po' come Osprey però è uno che comunque merita assolutamente di essere seguito ed è giusto che sia in questo momento con il titolo intorno alla vita vediamo poi ovviamente quanto dura questa cosa vediamo anche chi potrebbero essere i prossimi ad affrontarlo ha debutto con sconfitta invece per Rey Mysterio nella New Japan io ero convinto che ci fosse andato in New Japan a fare qualche match quando era sotto no debutto assoluto infatti l'avevo sbagliato sono andato poi a vedere ieri durante la cronaca e avevo corretto quello che vuole era debutto assoluto abbiamo già controllato i tempi quando superava di Liger quando superava del match con Liger debutto assoluto in New Japan con sconfitta però anche qui in finale è prevedibile perché comunque dei tre di questo super team quello più sacrificabile era ovviamente Liger per ovvi motivi e la vittoria l'ha ottenuta Cody che cosa tra l'altro Cody se devi comunque devi comunque tenerlo in alto esatto deve vincere il match assolutamente in questo in questo ripeto gestione assolutamente impeccabile Mysterio lo vedremo probabilmente in altre a meno che non arrivi la chiamata da il Cow Palace il Cow Palace probabilmente lo vedremo bisogna vedere in quale match però lo vedremo probabilmente da quelle parti altri match da segnalare vorrei parlare del più grande rovesciamento della storia del mondo probabilmente cioè il modo in cui Toruiano ha perso il match ah credevo Taichi no 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 beh quello di Taichi è una vergogna giustamente Taichi è stato derubato del titolo ieri durante durante il durante il suo match no volevo parlare del match tra mi sono addormentato durante quel match no è stato bello è stato bello raccontare quel match giusto perché sentivo in sottofondo Leo che le reazioni che stava avendo durante durante il match è stato è stata una fatica a non ridere si cagava sotto eh sì semplicemente il momento in cui Taichi è arrivato a menare a menare col col bastone Goto e Elgin ha avuto seriamente il terrore che Taichi vincesse no dicevo c'è stato il match tra Toruiano e Tom Hiroishi contro Minoru Suzuki e Zexabro Junior praticamente Toruiano è andato per dare il low blow a Zexabro Junior Sebor si l'ho visto l'ho visto Sebor ha chiuso le gambe e lo ha bloccato e lo ha preso e ha vinto il match si con l'Hummerlock con l'Hummerlock è stata la più geniale controoffensiva di sempre secondo me tra l'altro ricordiamo che Omega tra quattro giorni avrà già il suo primo match da campione WGP perché dovrà affrontare in una team battle exhibition in New Day esatto vabbè sai anche chi si porta dietro vedremo vedremo New Day contro Elite giovedì alle 22 in diretta su Twitch credo che sia la domanda che mi pongo la domanda che mi pongo io è un'altra ma i Bucks sanno giocare a Street Fighter è una bella domanda perché Coffee Big E forse un po' più pipa ma Coffee non fa schifo a Street Fighter Coffee no Coffee no Coffee non fa schifo ai videogiochi in generale poi soprattutto Coffee ha un'arma che gli altri non hanno cioè il trash talking Coffee è molto molto bravo nel trash talking molto molto bravo nel trash talking durante le partite in generale no ma lo so benissimo Mr. Gaccia because I got your ass comunque poi questo è una giovedì alle 22 alle 22 italiane credo che sia se me lo ricordo me lo guardo in diretta se ci avete tempo se ci avete tempo e ci avete voglia dura 15 minuti a Pop Down Down Superstar Safe Point ci sono Nakamura Nakamura e Asuka e Asuka molto carino sì molto carino parlano tra l'altro di diciamo di Elite di Bugs di Omega e di Bushi rivendico il fatto di aver indovinato cosa c'era nel cosa c'era nel pacco non che fosse particolarmente complicato però diciamo che se tu seguivi la storyline era abbastanza prevedibile che comunque tra l'altro se in caso volessimo fare un ordine da Provestintis per prenderci una maglietta dell'Elite della Golden Elite per me non quella della Golden Elite prenderei perché ce n'è una dell'Elite che mi piace molto di più della Golden Elite quella stile NWO quella uguale ma bianca no quella che mi piace di più è quella con l'Omega e le corna da cerbo non fosse bianca non fosse bianca sai cosa prenderei invece come maglietta Marti e FlipTech Japan bravissimo Marti e FlipTech Japan tra l'altro l'hai visto l'ultimo Bing Elite si si l'ho visto stamattina appena mi sono svegliato se qualcuno ci sta ascoltando dal Giappone e avete notizie di Flip Gordon per favore dateci notizie se le gireremo molto volentieri di roba analcolica tra l'altro dicono quindi non so secondo me sai che sta storyline lo porta ad essere ubriaco a arrivare completamente sbronzo all in cioè appare all in completamente sbronzo dopo due mesi o magari in Giappone va a liberare Stephen Amell per esempio non si sa come tra l'altro mi viene da ridere perché abbiamo avuto un'altra evoluzione diciamo della storyline dei poliziotti e dei discografici sono anche sono anche dottori adesso evidentemente sono Caserian e uno secondo me è Daniels uno è Daniels chiaramente l'altro potrebbe essere Caserian effettivamente non so se perché uno è Daniels uno è Daniels uno si capisce che è Daniels l'altro probabilmente è Caserian dei due comunque sono anche medici e adesso devono curare la condizione la condizione del povero Jay Vittal uno dei due gli ha dato sei mesi di vita tra l'altro Daniels è probabilmente quello che dice più parolacce dei due perché all'inizio non li riconoscevo mi sembrava che volessero fare una mezza imitazione di Vince e così via con accento molto inglese però esatto però uno mi sembrava proprio lui uno è Daniels uno è chiaramente si capisce chiaramente noi abbiamo avuto gli SCU in questa puntata di Bindelita tranne un cameo tranne un cameo durante il pezzo di Iron Man Page sì SCU esatto e poi abbiamo visto il momento in cui finalmente Kenny Omega apre il pacco e l'ho aperto nel backstage di Osaka dopo aver vinto il titolo e c'era come peraltro avevo pronosticato la maglietta anzi in realtà ce n'erano quattro magliette con scritto The Elite dorata che poi tra l'altro è la maglietta che merita su Pro Wrestling Tees se volete la maglietta del Golden Elite si chiama ufficialmente Golden Elite adesso ti faccio vedere quell'altra che mi piace un casino nella box la Golden Elite la prenderei c'è quella di Olin con con coso Air Bernard l'hai vista? no non l'ho vista ma te la faccio vedere posso immaginare cosa sia però però diciamo te la mando adesso aspetta un attimo parlando di Olin abbiamo avuto diciamo che abbiamo una mezza conferma del fatto che l'evento da qualche parte andrà perché Don Callis è stato ufficialmente reclutato dei Bucks per commentare Olin il prossimo primo settembre io credo che alla fine questo evento andrà in diretta da qualche parte l'altro Mezzer ha detto nel podcast che ci sarà anche gente di alcune televisioni a Olin nel backstage quindi sta cosa evidentemente è molto più grossa di quanto sembri cioè è già grossa ma forse è ancora più grossa di quanto anche di quanto si aspettavano loro probabilmente esatto esattamente poi dipende tutto da come da come si muoveranno a livello contrattuale perché soprattutto ora che ha vinto il titolo ai WGP soprattutto che c'è questo evento al Kaopala sicuramente la WWE si muoverà per cercare di strapparli alla New Japan e credo che le offerte saranno anche molto 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 alte dipende da loro dipende da loro e vediamo cosa vediamo cosa vediamo cosa succede vediamo cosa succede perché saranno comunque mesi molto interessanti ufficialmente il contratto di Omega scade il prossimo scade a fine anno comunque dopo al massimo si fa 4-5 gennaio vediamo penso che rinnoverà gli è andato il titolo quindi probabilmente la maglietta che ti dico che piace a me è questa te l'ho appena mandata aspetta che la guardo su Discord ah di Elite con il logo dell'Omega di Elite con il logo dell'Omega sì beh è molto bello comunque se vogliamo prendere su se vogliamo fare un'ordine su Present Ease io sono intorno a Summerslam poi esatto esattamente poi da lì da lì a Summerslam magari uscirà anche il merchandise ufficiale di Olin magari se c'è qualcosa di bello c'è già in realtà eh magari uscirà ancora qualcosa altro però ti faccio vedere la maglietta che ti scelta vuoi prendere la maglietta di Bruce Prichard che ho scritto FDM per esempio no 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 sta per fuck Dave Meltzer per la cronaca ci sono anche le magliette di boccia media Prichard odia Meltzer è una gimmick è una gimmick anche perché comunque il podcast di Bruce Prichard non quello di cioè anche quello sul network però principalmente quello che va appunto in audio è praticamente sono tre ore di spot per l'Observer perché comunque Cora Thompson usa diciamo il mezzo di documentazione di Cora Thompson è l'Observer per tutti i podcast che fa vabbè altre cose di dominio aspetta che vado a riprendere la card per parlare dei match che ci siamo ecco i Bucks Bucks che hanno vinto i titoli di coppia i titoli di coppia contro il Losincomber de Japón molto simbolico che abbiano vinto con la More Bank Story of Buck che comunque era un po' che non usavano di solito usavano magari la usavano come mossa di transizione però ultimamente chiudevano con il Meltzer Driver chiudevano con il Meltzer Driver esatto ieri hanno chiuso proprio con il More Bank Story of Buck sottolineato anche al commento da Don Caldas e Kevin Kelly perché è la mossa che praticamente gli ha fatti conoscere gli ha dato più successo negli anni precedenti primo titolo primo titolo di coppia Heavyweight per Ian Marks in New Japan un dicempo titolo di coppia in New Japan mi sembra che hanno fatto sì tutti tra Junior e Never tanto loro in questo momento sono anche i campioni di coppia in Never Sixth Man però probabilmente lo perderanno molto presto perché comunque questo titolo cambia di mano ogni tre giorni esatto con Party Marti si chiamano loro aspetta Super Villain Super Villain esatto si chiamano così parlando di match costruiti per credo per il Cow Palace ci tocca una bella sagra delle mazzate probabilmente perché ieri hanno iniziato a costruire Minoru Suzuki contro Tomohiro Ishi magari se lo tengono più avanti eh no questo mi sa che ce lo teniamo per il Cow Palace secondo me lo vediamo perché il Cow Palace comunque credo che verrà considerato come uno show grosso dalla New Japan al di là del fatto che comunque è in diretta negli Stati Uniti ma io credo che la prima difesa titolata di Omega la vedremo lì contro chi lo scopriremo contro chi lo scopriremo non mi scudo che possano presentare la Golden Elite come team contro un altro team anche eh però come mini event lo scopriremo tra una settimana perché anche meno no secondo me tra una settimana perché hanno tre eventi on the road hanno Kizuna Road e in quei tre eventi secondo me faranno diversi angle per costruire per costruire la card del 7 luglio perché comunque al momento non c'è niente per la card del 7 luglio quindi qualcosa qualcosa deve uscire poi magari la card non c'è niente prima però alcune cose secondo me le costruiranno tra 17 e 18 uno dei match che vedremo al Kaupal secondo me è Jay White contro Julius Robinson perché tutti gli Stati Uniti sono tenuti Robinson ha tarato schienato Jay White ieri quindi motivo per arrivare alla title shot ce n'è più di uno è stata tra l'altro ieri una giornata assolutamente traumatica per tutte le stable che non sono in bull club il Kaos è un disastro il Kaos ha perso tutto il Kaos ha perso tutti i match in cui era coinvolto praticamente sì perché Jay White e Yoshihashi hanno perso Tomi Rishi e Toruyan hanno perso Okada ovviamente ha perso chi altro vediamo un po' io almeno mi consolo col fatto che i Romu ha vinto quindi gli so si hanno vinto sì però Sanad e Evil hanno perso il titolo di coppia per esempio infatti questa cosa non mi va bene e ho già esposto una denuncia verso gli Young Bucks come c'entrano cioè perché la denuncia la denuncia ai Bucks scusa perché i Bucks hanno vinto e poi una denuncia a Gedo perché Gedo non ha dato i titoli non ha fatto uscire Naito a fine match quello per il titolo i WGP sì e non gli ha fatto vincere il titolo ingassandolo qualcosa dovevano fare un match a caso per far vincere Naito ma come a caso diciamo perché allora anche se eravamo a Osaka e a Osaka sta sul cazzo a tutti Naito ma non è vero che sta sul cazzo a tutti Naito a Osaka no è vero Osaka è odiato Naito è stata l'ho detto anche in diretta la cosa più strana del mondo cioè Naito molto amato a Osaka contro Gerico molto tifato però nel momento in cui cominciava a fare le cose da Ealy il pubblico lo fischiava quindi evidentemente volevano vederlo proprio baby face puro vogliono vederlo lui non lo so è stranissimo Naito a Osaka è sempre stato sul cazzo non è mai piaciuto al pubblico di Osaka però lo tifavano ieri durante il match i fischi sono arrivati nel momento lui faceva le cose da Ealy durante il match se tu guardi ci sono due momenti in cui lo fischiano veramente forte evidentemente volevano vederlo da diciamo classico white meat baby face non lo so è stata la cosa la cosa diciamo più strana del mondo molto molto strana come cosa poi altro no credo che abbiamo coperto tutto Suzuki Gunn ecco l'unico titolo che non è cambiato della card di Dominion è quello del Junior Heavy Tech Team perché il Desperado e Kanemaru hanno conservato battendo Shouyo in un match neanche tanto eccezionale però comunque era il match d'apertura quindi i match d'apertura sono durati anche poco 9 minuti e mezzo il primo 7 minuti e mezzo Robinson e Philly contro Jay White e Yoshi Ashi 8 minuti e 40 Suzuki e Sebro contro Ishi e Yano ma comunque in quegli 8 minuti Suzuki e Ishi sono tirati delle cartelle che la metta basta e il match 1 contro 1 a Kaopasa secondo me sarà particolar particolarmente duro ecco dobbiamo parlare del furto del grande furto cioè il furto che il povero Taichi ha subito ripeto io ho dormito durante io mi sono addormentato durante quel match a sottolineare ulteriormente la terribile serata del caos anche Goto che era l'altro diciamo l'altro detentore di cintura del caos ha perso perché Michael Helgin è diventato campione campione never Michael Helgin è un rematch magari con Goto perché non è stato neanche schienato quindi potremmo arrivare a quelli e anche quella Helgin contro Goto sarà una bella una bella saga delle mazzate effettivamente al Kaopasa peraltro Helgin informissima sì vero 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 mi ha stupito che non aveva il singlet perché lui lo sembra visto lottare col singlet sì aveva una cosa aveva il costumino ma non aveva il singlet magari se l'hai tirato giù a un certo punto però ha iniziato senza mi sembra che aveva solo le mutanne vado a riprendere aveva solo le mutanne infatti mi ha stupito quando è uscito vado a vedere vado a vedere non mi ricordo perché adesso vado a riprendere vado a riprendere praticamente il match ecco qua ecco questo è il match sì è vero è vero è vero ma più che più che le mutanne mi sembra il singlet tirato giù quello guardandolo così non lo so vediamo no no sono i pantaloni sì è vero a meno che non lo inquadrino dietro no 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 non è il singlet sono pantaloncini sì hai ragione tu hai ragione tu ricordo male io no comunque sì è in buonissima forma come in buonissima forma anche quella che accompagnava Taichi che non mi ricordo non mi ricordo più come più come si chiama Miwabe qualcosa credo che Miwabe esatto quella che accompagna diciamo che almeno lei era in forma a differenza di Taichi ma smettila Taichi no ma non è un insulto effettivamente c'ha la panza ma non c'ha la panza Taichi ma non è vero ma sì ma non ha la panza vogliamo parlare di chi ha la panza sul serio la panza c'è la cosa c'è la Gerico vabbè a parte anche Gerico sì però Gerico ha 50 anni Taichi no sì ma Taichi non c'ha la panza sto guardando sto guardando no è grosso ma non è tanto guardando in faccia sai che mi ricorda Funaki lui guardandolo bene ma non c'ha la cia ma no non è panza quella quella è massa molto semplicemente sembra che abbia la panza ma è massa alla fine se tu lo guardi stiamo avanti parliamo di cose meno allegre di meno allegre no di cosa vuoi parlare scusa di WWE purtroppo no 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 non c'è da parlare non c'è da parlare di WWE come no hanno annunciato che hanno annunciato il grande annuncio per domani a Raw ma non mi interessa minimamente direi questa cosa no c'è da parlare c'è da parlare di un'altra cosa c'è da parlare di un'altra cosa perché è giunto il momento è giunto il momento di prendere un bel aereo di andare nel sud della California perché mercoledì si ricomincia è tempo di parlare di luce è tempo di parlare di luce underground è tempo di andare a riprendere quello che quello che ci siamo lasciati alle spalle esattamente e io non mi ricordo quindi adesso andrà a vedermi il video finale della terza stagione di luce underground vabbè dobbiamo sto cercando di far battire la sigla ma sfortunatamente non parte quindi dobbiamo dobbiamo operare in altro modo adesso vado un attimo a vedere se riesco aspetta non è così non è così aspetta che vado a vedere innanzitutto dove l'ho lasciata la sigla eccola eccola qua partita un po' piano però è partita è partita almeno al punto facciamolo bene è il tempo di tornare nel sud della California andiamo a Boyle Heights oh no non siamo più a Boyle Heights comunque andiamo al tempio per luce underground andiamo al nuovo tempio esatto perché c'è un nuovo tempio e c'è anche un nuovo proprietario di fatto del tempio perché Dario Queto è stato Dario Queto è morto Dario Queto è stato ucciso praticamente è stato allora mettiamola così sì come come si è detto io sono scettico che Dario sia morto nel senso che secondo me potrebbe essere vivo ma non lo sapevo nascosto però noi abbiamo abbiamo già intravisto nel trailer della nuova stagione di luce underground questa figura che non è come possiamo descrivere l'abbiamo detto perché non è scattolato il video finale un misto di Dario Queto un misto tra Dario Queto e Albert Einstein praticamente che vedremo probabilmente mercoledì nel inizio praticamente della nuova stagione di luce underground che prende il controllo del tempio quindi l'idea è che Dario Queto sia morto praticamente in questa in questa alla fine della scorsa della scorsa stagione ci siamo lasciati con Pentagon Dark campione di luce underground dopo aver vampiro che si è rivelato il suo maestro esattamente non rivedremo più Prince Puma perché anche perché è da un'altra parte con un altro nome però praticamente con il suo vero nome esatto da un ricoscenno è il suo vero nome cazzo dice è il suo vero nome nel senso il vero nome un altro personaggio diciamola così il suo nome d'arte principale esatto esattamente ci siamo lasciati con ci siamo lasciati con Dante Fox Keyshot e The Mac che sono i campioni di trios praticamente di luce underground con Dante Fox e Keyshot che si sono riappacificati dopo essersi quasi uccisi in un match ma quella stronza di sexy star c'è ancora quest'anno? non ne ho la minima idea ti dico la verità poi c'è King Querno che ha King Querno cosa che aveva fatto? King Querno praticamente credo che abbia strappato il Gauntet of the Gods a Mil Muertes se non ricordo male no? o comunque sto rivedendo il video finale allora c'è sexy star che riceve una tarantola e non si capisce ancora King Querno credo che abbia attaccato Mil Muertes alla fine del Freeway Elimination match poi si vede Katrina e Jeremiah Crane Crane che probabilmente pensa ancora a Katrina poi c'è ancora Cobra Moon che tiene Drago poi si vedrà King Querno con il Gauntlet con il guanto perché Mil Muertes ha vinto il Gauntlet of the Gods Freeway Elimination match però poi è stato attaccato da King Querno alla fine perché non si vedeva e King Querno non si vedeva da un po' di tempo ed è tornato poi abbiamo The Meck aveva vinto questa Ultimate Opportunity praticamente che poi aveva preso come aveva praticamente avuto la shot per Tito Trios con Dante Fox e Kinshot che poi hanno vinto effettivamente però mi sembra che uno dei due non ci sarà quest'anno tra Dante Fox e Kinshot tu dici beh può essere lo scopriremo lo scoprirò mercoledì cominceremo scoprirlo anzi da mercoledì poi rivedremo Martin de Moff Martinez senza capelli forse perché Martin de Moff Martinez ha praticamente perso aveva perso i capelli contro Phoenix che continua in storyline a farsela con Melissa Santos esatto poi tra l'altro abbiamo chi è dei serpenti che è morto praticamente che è stato decapito forse Vibora se non sbaglio fammi controllare perché ho trovato un coso ma non si vede non c'è tutta ci sono dei pezzi tagliati o forse Pindar forse è Pindar forse è Pindar che è morto a Vibora mi sa vado a rivedere devo Pindar 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 è morto Pindar è morto Pindar è stato decapitato praticamente da Daga nel finale di stagione sotto gli occhi di Drago tra l'altro e questo è il finale vediamo se c'era qualcos'altro che abbiamo noi i titoli li abbiamo letti tutti nell'ultima luce Ivelisse ha battuto Katrina e basta direi si ah è tornata Black Lotus si non mi ricordo si è rivista Black Lotus che si è rivista Black Lotus ma non mi ricordo in che occasione stavo rivedendo qua il report dell'Observer ma tu dici a ultima luce o a si a ultima luce mi sembra anche nel video si vedeva non me lo ricordo non me lo ricordo minimamente non lo trovo da nessuna parte anche probabilmente l'ha fatta ma non non c'era poi nella puntata finale perché sono passati sei mesi quindi non non mi ricordo non mi ricordo ah no c'era apparsa ha ragione tu sai ha ragione tu sto riguardando il report praticamente è riapparsa praticamente nel match tra Matanza e Dragonastecca e ha fatto poi un crossbody dalla cima della gabbia sul Dragonastecca e poi quindi perché lei continua ancora a credere che il Dragonastecca praticamente abbia ucciso il suo padre e il suo padre perché mi sembra che l'avevano messo da qualche parte qui su il Rey mi sembra no mi sa che non c'è no non c'è no tra l'altro tra l'altro come tornando al discorso di Dario Queto si è andato a rivedere il finale di Ultima Lucia 3 quando quando gli spara praticamente l'agente oh Dio come si chiama l'agente l'agente Winter lui fa una telefonata e con l'ultimo rantolo di voce si sente se alzate proprio al massimo il volume con l'ultimo rantolo di voce dice la parola Papa quindi sta e dall'altra parte gli dicono Chico quindi questo personaggio qua è probabilmente suo padre questo personaggio che vedremo che vedremo la prossima diciamo la prossima dalla prossima puntata se anche lui sarà un appassionato di violence beh è un po' insito in tutta la famiglia direi diciamo ricordiamolo che è scritto è scritto come si legge V-A-I-O-L-E-N esatto siccola S e non con tutto Lucia Nargano ritornerà in onda nella notte tra mercoledì e giovedì alle diciamo alle 2 credo sì alle 8 credo ora americana costa est su R-A su R-A non abbiamo notizie per quanto riguarda per quanto riguarda eventuali trasmissioni in Italia no purtroppo non ho a nessuna parte il video completo del finale della terza stagione devi andare riprenditi proprio la puntata probabilmente eh sì ma non la trovo a devi andare riprenditi l'ultima puntata e poi ti guardi il video finale ah tornando a altre cose del Sunderground sì bisognerà vedere il turnover uno dei nomi che loro promuovono praticamente per diciamo per per questa per questo inizio di stagione è Mr. Pettacolar che culo eh eh sì Mr. Pettacolar eh dovrebbe esserci Tommy Dreamer ecco sì Mr. Pettacolar per la crona che è Jesse Goddard perché se lo ricorda perché se lo ricorda praticamente da io mi sai cosa mi ricordo ancora io di Jesse Goddard sì cosa te lo ricordi il debutto il debutto a Impact quando fu presentato eh è Jesse Goddard con Taz che lo popa come se fosse praticamente George Clooney all'arrivo sì esatto all'arrivo a Impact con nessuno che se lo caga perché nessuno lo conosceva perché nessuno lo conosceva non lo conoscete ha fatto il grande fratello wow caspita vabbè hanno avuto diciamo stelle più scandalose nel passato di Jesse ti ricordo Johnny Fairplay quando c'erano i pervi settimanali al TNA Asylum questo è Luce Underground ritorna mercoledì e poi la settimana prossima riapriremo lo spazio fisso all'interno del caffè per commentare le puntate è un'ora in più che aggiungiamo a quello che già guardiamo in settimana passando alla WWE siamo a una settimana da Man in the Bank e direi che possiamo finire il problema è questo ne abbiamo già parlato abbastanza settimana prossima poi faremo la preview solita dell'evento l'abbiamo parlato già abbastanza secondo me nel caffè nel TWA radio show di martedì mercoledì e non è che c'è molto da dire oggettivamente quello che ho detto io non hanno idee per come arrivare a sta cacchio di coso e si sono accogli che erano troppe puntate prima del preview hanno finito la costruzione del Man in the Bank dei due Man in the Bank con diverse settimane in anticipo adesso più che andare avanti con match tra i partecipanti alla contesa non sanno cosa fare alla fine come si suol dire come si dice qua a Milan stanno ciurlando nel manico anche perché domani a Raw per esempio avremo non uno ma ben due Fatal 4 Way con i quattro partecipanti di Raw cioè da una parte avremo Amber Moon Alexa Bliss Natalia e Sasha Banks e poi avremo quello femminile scusami quello maschile quello maschile chiedo scusa con Braun Strowman Finn Balor Bobby Roode e Kevin Owens se non ricordo male aggiungi che aggiungi che poi domani a Raw avremo una preview del pay per view con Jinder Mahal contro Roman Reigns dai se esiste un dio lo fanno domani e non lo fanno il pay per view ma non credo esista un dio lo sai che dio non esiste è vero io so diciamo sono abbastanza ho la convinzione che diciamo non è che ci sia granché nell'aldilà e quindi non sono convinto che ce lo vedremo domani e lo vedremo anche domenica molto probabilmente si si purtroppo e poi avremo anche un faccia a faccia tra Nia Jax e Ronda Rouse domani a Raw e non c'è neanche gara 5 delle finale NBA contro perché le finale NBA sono finite quindi non ho la scusa per vedere qualcos'altro durante Raw perché domani non c'è una mazza durante Raw Golden State ha deciso che col cazzo che vi diamo una vittoria e vinciamo in casa a sto giro vi vogliamo distruggere hanno vinto di 20 non mi ricordo comunque hanno nominato come ha detto giustamente Davide Pessina la serie finita dopo gra 1 cioè J.R. Smith ha condannato i Cleveland Cavs alla sconfitta in quattro partite beh allora io ho visto gara 3 gara 3 se la sono abbastanza giocata si no l'ho vista tutte le gare si se la sono effettivamente abbastanza giocata però gara 3 se la sono abbastanza giocata però qui se la sono giocata perché Kerry non c'aveva voglia di giocare quel giorno più che non aveva voglia di giocare ha trovato la serata negativa però il dislivello tra i due team era comunque cioè con tutto che gara 3 in gara 3 abbiamo visto Cleveland comunque già più squadra però per gran parte delle partite Lebron che predica nel deserto e buonanotte cioè Lebron tra l'altro la sua ultima mi ha fatto ridere molto De Miza non so hai visto De Miza quando è nato ospite a First Take di ESPN mi sembra giovedì dopo gara 3 che era ancora convinto che Cleveland vincesse in 7 partite si venendo irriso brutalmente da Stephen A. Smith dagli altri del programma no vabbè ricordiamo la carne di Man in the Bank andiamo match per match ma brevemente Daniel Bryan contro Big Cass Daniel Bryan ci sta provando per diciamo sta provando a fargli avere un bel match ma non ce la fa sta provando a rendere interessante il build della costruzione del secondo me per come poi per il promo di lunedì Bryan lo uccide di martedì lo asfalta di martedì lo asfalta perché mi sembra il tipico promo da Hill che dice io sono più grande quindi ti batterò e poi lo prendi in culo un'altra cosa che sottolineava Melzer odio fare in questo caso un parallelo con Dominion però un'altra cosa che Melzer ha sottolineato quest'oggi nel podcast è la differenza tra i promo cioè comunque quando Kenny Omega fa i suoi promo anche nelle conferenze stampa è credibile cioè comunque sembra che effettivamente parli dal cuore e probabilmente lo fa anche in certi punti però è chiaro che in alcuni punti fa comunque promozione fa comunque costruzione dei match Daniel Bryan lo senti parlare di Big Cass sta chiaramente costruendo un match e non sono parole che lui direbbe mai molto probabilmente è il guaio di quando i promo te li scrivono di quando te li scrive gente che probabilmente non ha la minima di quello che tu dici lui diceva bene che ci sono dei momenti in cui senti che comunque è lui che sta parlando e poi dei momenti in cui si capisce che non è lui e poi le parole sono completamente irreali cioè completamente diverse da quelle che uno come Daniel Bryan non sarebbe assolutamente sì va bene Daniel Bryan e Big Cass un match poi Seth Rollins contro Elias per il titolo intercontinentale non escludo cambio di titolo qua io non escludo non credo però non escludo che Elias possa Elias possa vincere la cintura anche per liberare Rollins magari in vista di cose un pochettino più importanti se vogliono farlo se liberano Rollins al titolo intercontinentale è segno che forse qualcosa di più importante sta arrivando se non lo liberano vuol dire che lo tengono lì anche per Summerslam o altre cose si parla di Reigns contro Lesnar atto 18 quindi vedremo vedremo se almeno a Brooklyn quando finalmente ci sarà finalmente la consagrazione in mezzo a un pubblico che lo ama e lo rispetta esatto esatto New York City come era la tesi di la tesi di Brian che è meravigliosa di Brian Alvarez precisiamo che hanno tipo 3-4 miliardi all'anno o quello che era 3-4 miliardi di portarsi Lesnar a qualsiasi show e fare l'impromptu match quando trovavano un posto dove tifavano Roma ecco buona fortuna parlando di grandi match che vedremo Man in the Bank Bobby Lashley contro Sammy Zane il match sarà anche decente la rivalità diciamo bene ma non benissimo per utilizzare l'uphemismo anzi allora diciamo che è una vera poca merda la rivalità però vabbè in questo momento in WWE ci sono tre delle faide peggiori dell'anno contemporaneamente che sono Lesnar contro Zane Sasha contro Bailey e scusa ma Naya contro Ronda io la metto nelle faide peggiori dell'anno vabbè non hanno una faida di fatto alla fine se tu vai a vedere hanno una faida di merda non hanno una faida è vero non hanno una faida hanno merda non hanno una faida perché non hanno fatto a parte diciamo a parte il segmento 1 contro la firma del contratto e la diciamo la firma contrattuale no scusami l'atto di bullismo di Naya Jax sulla povera Jobber e lunedì scorso dove Naya Jax era preoccupata per Natalia appunto e questa per loro è una faida lo sai vero? sì lo so però non lo è di fatto se tu lo guardi comunque vabbè lasciamo perdere tra l'altro la storia dell'infortunio di Natalia secondo me rientrerà pesantemente in gioco molto molto presto Natalia secondo me è destinata all'incasso su Ronda Ronda vince il titolo a Man in the Bank Ronda che tra l'altro è stata appena annunciata bella Hall of Fame della UFC è stata annunciata nella notte durante UFC 225 quindi andrà chissà se ci andrà col titolo WWE se ci andrà da campionessa da campionessa di Raw se magari glielo fanno già perdere non lo so vediamo magari lo vince e lo perde a Summer vediamo vediamo cosa fanno comunque Naya Jax per il titolo femminile di Raw Carmella Contrasco per il titolo femminile di SmackDown teoricamente è un match che dovrebbe durare 20 secondi però non credo lo durerà 20 secondi non so se tu che ne pensi no non durerà poco purtroppo no poi magari non durerà tanto magari durerà 7-8 minuti però io spero che duri il meno possibile e ovviamente visto che non sanno cosa fare perché non sanno quello che fanno ovviamente Asuka sarà la babyface in pericolo per tutto il match cioè le prenderà per tutto il match e poi magari avrà il comeback e poi Carmella vincerà sporco sì può essere non lo so io spero sia al contrario con Asuka che è la mela per 8 minuti e poi Carmella vince sporco però spero anch'io che Carmella che vinca vinca cosa vinca Asuka però sai che non vincerà cioè è una campionessa impresentabile sotto qualsiasi punto di vista Carmella però ci prova lei ci prova però lei ci sta lei ci sta provando però non ce n'è secondo me non ce n'è però ci prova ti riconosco e ci provi però non ce n'è secondo me ecco un match che durerà durerà poco secondo me sarà Gallo Zenderson contro i Bludgeon Brothers sì sì purtroppo anche quello durerà poco è un palese Gallo Zenderson sono più uno palese sono assolutamente un più uno palese per i Bludgeon Brothers secondo me in attesa che arrivi New Sanity sì sì tra l'altro c'era qualcuno che aveva una attesa interessante su Reddit cioè questa storia che non hanno portato su Nicky Cross no? e se fosse un depistaggio del tipo Nicky Cross perde a takeover e poi debutta il giorno dopo con loro comunque al fianco o loro che debutano con lei al fianco può essere vediamo vediamo che succede perché non penso che Nicky Cross vinca a takeover poi bisogna vedere se vogliono portare avanti questa cosa per come si chiama per Brooklyn per Brooklyn però non lo so perché Dakota Kai perché lui mi sembra troppo presto ha perso un match anche nettamente Dakota Kai è una cosa più sul lungo termine Dakota Kai secondo me è una cosa sul lungo termine su come si chiama su 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 Nicky Cross si puoi anche eventualmente lavorare per un altro per più anche perché altri chi c'è in quel roster in quel quale? quello di SmackDown? no di NXT io dico nessuno nessuno ah Carrie Sane l'unica Carrie Sane Carrie Sane però ne parlavamo in settimana io e te sì tu dici che ha perso ha perso un momento sì è vero mi dirà l'impecie di aver perso il momento sì non per colpa sua però in questo caso perché è vero che si è fatta si è fatta mai stata ferma per un po' di tempo però non credo che l'avrebbero pushata subito cioè perché lei è stata ferma quando è stata ferma? inizio dell'anno credo no? credo mi sia sbaglio sì sì ecco non credo che sarebbe andata per il titolo per il titolo a New Orleans come ti avevo detto come ti dicevo mi sembra in una situazione itamesca nel senso è lì sanno che ci puntano però non hanno spazio per lei in questo momento itami itami diciamo è colpa sua nel senso che si è fatto male poverino in più di un'occasione quindi poi al momento di spingere non ce l'hanno fatta tant'è che adesso è a 2.05 live credo che sarà anche il prossimo tra l'altro tu che hai visto in queste domande secondo me sarei il prossimo per il titolo per il titolo per il titolo contro TJP dicevo ho perso il discorso che stavo facendo sfortunatamente per quanto riguarda Carrie Sane lei si è fatta male però rimango dell'idea rimango dell'idea che comunque lei non sarebbe stata per il titolo già anche perché si sono trovati tra le mani Shayna Bessler e hanno optato per la fight tra Shayna Bessler e Amber Moon che è stato un successo è stato assolutamente un successo e lei Shayna in questo momento è una delle campionesse migliori che hanno cioè secondo me tra Nia Jax Carmella e Shayna Bessler è nettamente meglio Shayna Bessler come campionessa tra le tre donne che abbiamo in questo momento in quel di Raw non so tu cosa ne pensi in quelli del roster più che altro Dakota non è pronta non è pronta a livello di storyline è pronta a livello di lottato ma a livello di story se tu la metti campionessa adesso rischi di ammazzarla si no è troppo presto è troppo presto devi prima ricorda molto al di là del fatto che è uguale dal punto di vista fisico ricorda molto la questione di Bailey cioè Bailey quanto ci ha messo a costruirla due anni almeno si è vero Ivy considerando il fatto che Ivy non parte come la fan che abbraccia tutti e robe varie però parte come è quella che ha paura di Shayna Bessler e devi prima dare delle vittorie convincenti per farle aumentare l'autostima a livello in storyline in modo che poi possa andare tranquillamente contro la campionessa è un lavoro molto sul lungo termine e su quello NXT lavora da dio sulle costruzioni della storyline a lungo termine NXT non ha uguali forse la New Japan in questo momento è lì forse NXT forse un pelino più basso ma perché comunque qui già solo in mezzo di ieri è il culmine di due anni di lavoro però comunque anche NXT sul lunghissimo piano lavorano molto bene è un lavoro lo diciamo sempre NXT è un mondo a parte naturalmente naturalmente certo cioè NXT ha una cura in dettagli che nel main roster non hanno si e vai a capire i motivi non ne hanno voglia non ne hanno voglia perché io dico questo io dico questo è vero è un prodotto fatto per i fan hardcore questa cosa NXT ma il fan hardcore il fan hardcore cioè la logica potresti averla anche nel main roster anche facendo un prodotto più semplice certo ma non vuol dire un prodotto semplice e per le famiglie non vuol dire che non deve avere una logica o non deve essere fatto con una qualità pienamente d'accordo però loro dall'altra parte ti dicono ok io facendo il prodotto che ho fatto questo momento vado a prendermi 470 milioni da Fox e USA ma c'è ragione ma lì allora non usciamo non se ne esce io te la dico in questa maniera molto semplice sì e adesso dirò una cosa che solitamente diciamo sempre è una stronzata sì il problema del main roster è l'headbooker punto cioè che è Vince in questo caso esatto il problema è Vince ma chiaramente il problema è Vince cioè nel main roster il problema è Vince io non dico che se arriva Triple H ci vediamo robe come NXT nel main roster quando il presidente entra l'headbooker il problema è Vince non lo dirò mai però attenzione però attenzione tieni conto che se togli Vince di mezzo tu hai comunque gli azionisti il network il network inteso come Fox o USA gli sponsor c'è tutta roba che NXT non ha di cui non si deve preoccupare però ti dico questo secondo me se togli Vince che si sveglia se si sveglia a cazzo con le sue idee del cazzo alla mal per esempio se tu togli comunque dall'equazione una persona che sappiamo tutti è fottutamente lunatica perché Vince lo ha dimostrato nel corso degli anni è lunatico per come bucca se tu togli questa persona dall'equazione forse almeno un po' più di coerenza in quello che stai vedendo lo vedresti può essere può essere può essere però non ne ha non ne ha non ne ha non ne ha non ne abbiamo la controprova non ne abbiamo la controprova e soprattutto non ne abbiamo la certezza l'avremo quando Vince si toglierà di mezzo deciderà di togliersi di mezzo ovvero quando morirà e non è detto non è detto che venga esatto sai che su Vince c'è sempre la convinzione che anche anche quando tirerà le coerenza ce l'avremo comunque in mezzo si 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 assolutamente ogni settimana Vince secondo me esce da Stanford per un'oretta va a farsi come il signor Barso il trattamento il trattamento per allungarsi la vita di una settimana si cioè però il problema penso che sia assolutamente cioè io non sono di quelli che dice ah se Vince va via avremo l'attitudera di nuovo no quella non può non può tornare tempi troppo diversi penso che il programma arriverà come lo vediamo adesso assolutamente si per motivi di sponsor per motivi di tempi anche tra l'altro penso che avremo un po' più di coerenza come se stiamo guardando senza dubbio senza dubbio e così via cioè avremo un po' più di secondo me potremmo anche avere un po' più di progettazione a lungo termine si perché uno dei problemi di Vince è che non progetta a lungo termine si o progetta a lungo termine solo quello che gli fa solo Romain esatto in realtà progetta a lungo termine perché comunque secondo me il main event di Wrestlemania nel prossimo anno Vince lo sa si poi poi ovviamente lui cioè il problema di il problema di Vince secondo me non è che non sa come arriva cioè non sa cosa vuole a lungo termine perché secondo me ripeto il main event di Wrestlemania ce l'ha il main event di Wrestlemania lui lo sa quale sarà cioè un'idea ce l'hanno per il main event di Wrestlemania come hanno probabilmente l'idea del main event di Summerslam il sguardo è che se tu mi dici in questo momento quale sarà il main event di Summerslam non te lo so dire probabilmente perché non si capisce in questo momento qual è la situazione ma non perché hanno tante strade da toccare perché proprio veramente non l'ha costruito molto semplicemente perché non la costruiscono il problema è che loro sanno diciamo come arrivare alla fine ma non sanno cosa vogliono alla fine ma non sanno come arrivarci il problema è quello assolutamente quando erano altri tempi ovviamente però quando tipo Wrestlemania 4 faccio un esempio Wrestlemania 4 il main event cioè il Majo Man Randy Savage che vince il torneo con anche l'aiuto da parte di da parte di Hulk Hogan è costruito per arrivare a Wrestlemania 5 con Hogan contro Savage cioè quel finale lì è fatto apposta per arrivare l'anno dopo e tutto quello di mega power e tutto quanto sono tutte cose che sono arrivate di conseguenza per arrivare a quella diciamo a quella situazione tu adesso cioè io ti posso dire che l'ultimo anno effettivamente è stato l'ultimo anno dal punto di vista del lungo termine non è stato gestito male nella WWE perché comunque è chiaro che dovevi arrivare a Roman Reigns contro Brock Lesnar a Wrestlemania con Roman Reigns che batteva Brock Lesnar il problema è che poi Reigns ha perso a Wrestlemania il problema è tutto lì su quella faccenda però l'ultimo anno effettivamente hanno fatto lavoro di costruzione sul main event quest'anno però ok adesso Lesnar Lesnar ha perso cioè scusami Lesnar ha vinto a Wrestlemania poi ha conservato titolo a Great Story al Rumble a Summers teoricamente dovrebbe esserci Reigns contro Lesnar dovessi dire perché comunque la sensazione è che stiano cominciando anche a costruire quello anche al commento ok poi che fai cioè Reigns per forza vince a questo punto e poi Reigns vince cosa fai rimatch Reigns Lesnar Restelmania chi dice che Lesnar conservi cioè chi dice che Lesnar rimanga più che altro anche in WWE credo che in questo momento sia anche una situazione figlia di questo cioè loro non sanno non sanno anche come chi farà parte del roster praticamente da qui da qui a Restelmania probabilmente quindi è figlia anche di questo è un altro mondo c'è semplicemente il main roster ci sono talmente tante testa qui a cui dare ascolto che a un certo punto io non mi sorprendo del fatto che a un certo punto dicano ma sì chi se ne fotte della continuity chi se ne fotte della logica tanto comunque i network sono contenti e buonanotte a secchio la fine tanto comunque il loro pubblico ormai ce l'hanno il loro pubblico ce l'hanno gli dai veramente la peggio merda e rimangono ormai perché comunque 2 milioni e mezzo 1 milione e 6 3 milioni il lunedì sera cioè promuovi il row 25 fa 4 milioni e 7 se non mi ricordo quanto fece il row 25 si il row 25 fece l'ira di dio fece quasi 5 milioni quindi comunque il loro pubblico se gli dai un motivo anche un motivo stupido per esempio il pubblico ti guarda il superta shakeup quanto ha fatto il superta shakeup ha fatto tipo 300-400 mila in più rispetto a settimana prima ed è il superta shakeup alla fine quindi non stiamo parlando di cose di cose impressionanti alla fine cioè è probabile che con con Tripoletia a dirigere la compagnia ci sia più attenzione da quel dettaglio però non è detto non è assolutamente detto no non è detto assolutamente per il semplice motivo semplice motivo che nel main roster hai troppe teste da soddisfare alla fine quello assolutamente è probabile è probabile ma non è detto quello ti dico ho questa sensazione il vero problema comunque della compagnia in questo momento di roadie booking e tutto il resto è l'essere completamente lunatico del no io non sono d'accordo che il problema sia quello il vero problema della WWE secondo me è che niente ha importanza anche quello niente è importante cioè niente ha conseguenze in quella compagnia anche quello non dico di arrivare alle vette che tocca la new japan però in new japan tutte le cose che succedono hanno una conseguenza qui in WWE niente di quello che succede ha conseguenze però ti dico anche questo a NXT le conseguenze ci sono io parlo di Raw e Smackdown sì sì è il main roster ma lì il problema secondo me a parte sponsor e così via è anche l'headbooker stesso sì assolutamente assolutamente che buca di me che non semplicemente bucano bucano per i ragazzini bucano per comunque un prodotto dato per le famiglie dato i bambini di 10 anni i bambini di 10 anni queste cose non prestano attenzione e quindi loro se ne fregano molto semplicemente però è brutto è brutto perché è un prodotto che a noi che a noi non va bene ma l'abbiamo detto l'abbiamo detto anche in più occasioni non è un prodotto per noi come dico spesso è un prodotto che a volte anche molto spesso insulta l'intelligenza delle persone che lo stanno guardando senza dubbio senza dubbio è questo però però a questo punto te la rigiro te la rigiro ancora una volta cioè ok insulta l'intelligenza però dal prossimo contratto dal prossimo contratto vanno a prendere ma è vero ma alla fine sono ma infatti da qui in poi ci sarà solo una discesa dal punto di vista qualitativo cioè non hanno assolutamente motivo oddio magari smagano magari smagano un pochettino di più perché comunque essendo in chiaro devono in chiaro su Fox che comunque è un network importante dovranno per forza un pochettino garantire certi risultati mentre se fossero sul cavo possono preoccuparsi molto meno la nostra la nostra discussione in questo momento perché poi alla fine ne abbiamo sempre parlato e sai benissimo che la penso comunque come te sotto certi aspetti è più per fare l'avvocato del diavolo sì certo per l'amore di Dio sei un po' sei un po' sto facendo il Denardi della situazione no dobbiamo creare un pochettino una discussione come Cruciali Parenzo senza arrivare alle vette di ignoranza di Cruciali Parenzo però dobbiamo creare un po' una discussione però purtroppo è così sfortunatamente ma assolutamente sfortunatamente da adesso in poi per i prossimi 5 anni 6 anni anzi perché il contratto parte a ottobre 2019 precisiamo non è un contratto ancora firmato ufficialmente però è praticamente fatto il contratto con Fox USA al triplo del prezzo ecco tra l'altro una cosa che non avevamo sottolineato la settimana scorsa ed è una cosa che giustamente hanno sottolineato in settimana su Foro dello Sterner il fatto che Rupert Murdoch sia stato coinvolto direttamente in prima persona con la trattativa su Fox potrebbe anche essere una buona notizia per Sky in Inghilterra intendo più che altro perché comunque con questa storia che adesso hanno approvato comunque la possibilità che la Disney e Comcast possano prendere Sky in Inghilterra a patto che Sky ceda Sky News la cosa potrebbe essere una buona notizia anche a fronte di un netto caldo di ascolti che c'è stato in Inghilterra per la WWE su Sky su Sky Sports potrebbe essere una buona notizia per l'eventuale rinnovo contrattuale con Sky in Inghilterra anche perché onestamente non saprei dove potrebbe andare la WWE in Inghilterra tenendo conto che ci sono anche altri player in questo momento in gioco faccio un esempio in settimana Amazon su Amazon Prime in Inghilterra ha preso i diritti dalla Premier League non di tutte le partite naturalmente però di 20 partite 20 o 30 no non credo che fossero due giornate tutte le partite quindi dovrebbero essere 20 partite pagate mi sembra 70-80 milioni non ricordo la cifra la cifra precisa comunque anche Amazon si è messa nel mondo dello sport a pagamento si era già messa in realtà comprando i diritti del tennis con l'NFL no a parte quello ma in Inghilterra ha preso i diritti anche del tennis ha preso i diritti del US Open e del tutto il circuito ATP dei Masters 1000 c'è quelli di tutti i più importanti Roma Monte Carlo Barcellona eccetera quindi ci sono anche ovviamente c'è anche lo streaming di cui tenere eventualmente conto da noi in Italia vedremo nel 2020 cioè il contratto scade nel giugno del 2020 speriamo di avere notizie credo che comunque se ne comincerà a parlare il prossimo anno non credo che già quest'anno cominciano a parlare di eventuali rinnovi in questo momento però francamente in Italia l'ho detto già la volta scorsa non vedo altre emittenti all'interno di Sky nel peggiore dei casi mettiamo a caso che Sky non arrivi a rinnovo con la WB nel peggiore dei casi sapete cosa succederà? mettono semplicemente le puntate su YouTube le puntate su YouTube perché non so se lo sapete ma Sky in territori dove non ha un accordo televisivo al martedì e al mercoledì applauda sul proprio canale YouTube le puntate di Roy di SmackDown integrale integrale no perché in realtà la versione di YouTube è quella di Uru da 90 minuti che forse è anche meglio da certi punti di vista Sky non rinnovate dai smettila mercoledì invece applaudano SmackDown integrale al mercoledì mattina ed è aperto ai paesi come per esempio l'Olanda dove non c'è un accordo televisivo stai che sto sperando che Sky non rinnovi ma smettila perché non dovrebbe rinnovare Sky giusto perché puoi vedere Roda 90 minuti perché posso vedere Roda 90 minuti vabbè perché dovresti voler vedere vabbè lasciamo stare no perché dovrei allora Erika questo deficiente non sta scherzando io sì sto scherzando tu chiedi a me tu chiedi a me perché voglio perché cioè veramente tu mi chiedi perché voglio vedere Roda 90 minuti sì no c'è solo credo Roda e Smackdown non credo che applaudino NXT sì solo Roda e Smackdown per quello c'è il network che mi frega di NXT no no capito sì giusto effettivamente c'è il network quindi non c'è motivo Roda e Smackdown invece vengono applaudati su YouTube il giorno dopo la messa in onda Roda 90 minuti Smackdown sempre 90 minuti che poi alla fine è integrale perché comunque le puntate di Smackdown regaliamoci un sole smettila dai non rinnovate finiscila no dicevo male che vada per l'utenza naturalmente cioè se il WB non dovesse rinnovare con nessuna televisione in Italia comunque non rimaniamo al buio nel senso che comunque le puntate su YouTube continueremo a vederle cioè ci aprirebbero metterebbero le puntate le metterebbero in studio il giorno dopo probabilmente per noi italiani e per gli altri paesi dove non c'è un contatto televisivo non credo che ciò avverrà io credo se proprio Sky se proprio Sky deve cioè se proprio Sky deve innovare Sky secondo me va a innovare con la WB secondo me potrebbero mollare i pay per view perché comunque con il network non c'è più motivo cioè non ho i numeri in mano in questo momento diciamo di quanto facciano i programmi di WB su Sky e quanto facciano i pay per view non credo che siano rimasti alti comunque i numeri con l'avvento del WB network anche se anche se Sky ha il vantaggio di poter offrire i prodotti in lingua italiana il pay per view in lingua italiana al momento va in onda solamente su Sky però non credo cioè non so quanta gente lo compri onestamente questo pay per view non credo non credo quanto faccia non credo che faccia molto quindi penso che si possa tranquillamente sacrificare con ovviamente la condizione che da quel momento anche cominciano ad andare in italiano il pay per view anche sul WB network per esempio per chi vuole vedere un italiano naturalmente non lo so vedremo cosa accadrà però sono discorsi molto prematuri anche perché comunque la televisione che c'è adesso nel 2018 nel 2020 può essere molto diversa quindi è un mondo in costante evoluzione quello televisivo quindi può accadere tutto e contrario una cosa di cui comunque dobbiamo essere contenti è il fatto che comunque la WB da adesso va anche per esempio sul digitale terrestre chi vuole prendersi chi vuole farsi l'abbonamento a Sky sul digitale terrestre ha un canale Sky Sport si chiama Sky Sport 1 che però non ha niente a che vedere con lo Sky Sport 1 satellitare perché comunque c'è di tutto dal punto di vista dal punto di vista della programmazione tra cui la WB adesso per chi ci sta ascoltando perché ci sta ascoltando di lunedì vi diciamo anche la programmazione di Sky sul digitale terrestre in settimana su Sky Sport 1 ma credo che ci siano tutti i programmi l'unico forse è Smackdown che va in onda giovedì chiedo scusa alle ore 13 per il semplice motivo che mercoledì sera ci sono i playoff di Serie B allora mandano in onda i playoff di Serie B sul digitale terrestre anche su Sky Sport 1 tra l'altro potete ancora se avete una carina di Mediaset Premium ancora vedere il canale gratuitamente fino al primo luglio poi dal primo luglio ci va l'abbonamento se vi abbonate entro il fine del mese di giugno a Sky lo pagate 19,90 per un anno invece che 21 allora allora lunedì oggi per chi ci sta ascoltando alle 13 c'è NXT su Sky Sport 1 digitale terrestre alle 19 experience poi di notte mette Golden State Cleveland ma non credo che manderemo quindi potrebbe anche andare in onda raw direttamente in diretta però non c'è non c'è conferma martedì di puntate nuove alle 19 c'è raw quindi dalle 19 alle 21.30 mercoledì non c'è nulla di puntate nuove giovedì c'è Smackdown alle 13 e poi venerdì e sabato non c'è nulla perché c'è la MotoGP e c'è e c'è il golf e ci sono altri eventi quindi NXT e NXT main event andranno in onda probabilmente poi in replica all'inizio della settimana prossima quindi lunedì molto probabilmente questa è la programmazione però Raw e Smackdown sui digitali terrestre vanno in onda e questa è una buona è una buona notizia per chi non voglia rimettere i satelliti ma vuole vedere comunque ProTWB adesso c'è questa possibilità anche con Sky sul digitale terrestre visto che c'è un'offerta anche per il digitale senza avere bisogno dei satelliti altre cose altre cose di questa settimana che abbiamo dimenticato detto che della WWE parleremo in abbondanza settimana prossima con la preview di Money in the Bank che andrà online tra sabato e domenica cosa c'è di altro direi nulla credo dobbiamo parlare di NXT prendiamo di NXT un attimo visto che non abbiamo ancora parlato giusto cosa che è successo a NXT è l'ufficializzazione di Nick promo di The Dream promo di The Dream contro Ricochet bellissimo bellissimo con Ricochet allora le due parti belle di questa cosa sono Lars Sullivan che ammazza dei jobber durante l'allenamento si a caso con i TM61 che entrano dentro lo vedono e dicono ma che cazzo ci facciamo qua e se ne vanno ah che bello siamo qui per allenare nope no torniamo indietro tra l'altro sul sito sul sito della WWE non so se sia una coincidenza o un momentano errore i TM61 li hanno rinominati The Mighty quindi potrebbero anche rinominarli The Mighty ho notato ho notato sta cosa quando stavo guardando appunto NXT perché sui led intorno all'arena erano chiamati The Mighty e non TM61 quindi magari potrebbero potrebbero cambiare il nome cambiare il nome tanto era The Mighty The Mighty 61 esatto esattamente esattamente dicevo del promo del promo di come si dice il promo come si chiama il promo di non mi viene la parola Dream contro Ricochet esattamente la cosa più bella è Ricochet che ricorda The Mighty Dream quando era Patrick Clark a diciamo come si chiama a Taff & Huff a Taff & Huff esattamente Stacco sul The Mighty Dream e il Baby dice The Dream has no recollection of that il Dream non si Dream non si ricorda di tutto questo io ho vinto io ho vinto in tutto il mondo lui è stato eliminato da Taff & Huff stacco sul Dream in un reality show stacco sul Dream The Dream has no recollection notevolissimo molto molto divertente poi a livello le altre cose belle l'assalto di Gargano ai danni di Ciampa relativo promo precedente bel match tra Roddy e Danny Burch bel match anche quello tra l'altro abbiamo avuto l'ennesimo si vai vai abbiamo avuto l'ennesimo match tra la Sein e Leslie Evans con la Vittoria la tipa che mi sembra di aver visto in un porno ma non l'hai vista in un porno smettila è generica ma non e puoi avere visto una simile perché Leslie Evans a livello di fisico è talmente generica che puoi effettivamente trovarla da molte altre parti diciamo non è generica come Nick Miller Nick Miller proprio dovrebbe essere più generico in assoluto però è abbastanza generica anche Leslie Evans a livello di fisico a livello di faccia io quando mi hai detto li hanno rinominati speravo che avessero rinominato Nick Miller non lo rinomineranno che schifo ma smettila ma fai no io io non non tollero che quello si chiama Nick Miller ma smettila perché ce l'hai con New Girl ci sono molti Nick Miller in giro per il mondo anche senza che non dovrebbero chiamarsi ma smettila ma smettila ma smettila c'è solo un Nick Miller come scusa che c'è solo un Nick Miller ed è un personaggio meraviglioso vabbè 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 cos'altro vabbè abbiamo avuto l'ufficializzazione di Nicky Cross contro Shaina Bessler esatto a Takeover Chicago sembrava sai quando ti faccio un paragone molto bello sai quando ti diceva sfidami sfidami sono qui hai presente sembrava Schwarzenegger in Predator quando gli faceva come on kill me come on come on do it come on do it do it now ok va bene va bene va bene e altro cosa aggiungere settimana prossima il GOM prima di Takeover Chicago che sarà nella notte tra sabato e domenica quindi poi faremo anche preview di quello anche se andremo online assolutamente a pochi minuti dalla disputa di Takeover Chicago e cos'altro da segnalare cos'altro da segnalare della settimana direi non molto in realtà di cose di cose particolarmente importanti eh ecco parlando di NXT ah no ecco un'altra cosa relativamente a Ronda Rousey che abbiamo detto Ronda Rousey sarà in Italia nel tour sarà di nuovo in Italia nel tour sarà introdotta nella All of the New Jersey l'abbè detto prima della All of the New Jersey me la sono persa no l'ho detto prima io dicevo Ronda Rousey sarà le due date di Bologna e Roma il prossimo 9 novembre per la precisione Bologna e 10 novembre a Roma l'hanno annunciata per il momento per Madrid 3 novembre Barcellona 4 novembre Bologna 9 e Roma 10 quindi non si sa cosa faccia in quei 6 giorni tra come si chiama tra Barcellona e Bologna quei 5 giorni in realtà magari torna indietro non ci sono i taping in quei due giorni mi sembra strano che faccia solo queste due date all'inizio torna in Stati Uniti e poi ritorna indietro per Bologna mi sembra una cosa abbastanza strana però che taping ci sono i taping che taping possono essere è un Rousey è un Rousey eh no turni novembre si eh eh appunto che taping ci sono i taping i taping londinesi di solito ah ok ok no ma perché tu dicevi torna in America no lei torna in America cioè mi sembra strano che mi sembra strano che l'annunciano per Madrid e Barcellona poi lei eventualmente torna in America e poi ritorna in Europa per dopo cioè si fa Madrid e Barcellona il 5 torna in America e l'8 ritorna praticamente in Italia per in Europa per fare la parte finale del tour queste ultime due date oh chi lo sa mi sembra strano adesso vado comunque noi saremo noi a questo giro saremo a Bologna a Bologna sì esattamente allora le date sono te lo dico subito quando sono i taping i taping sono lunedì 5 novembre a Manchester e martedì 6 sempre a Manchester lunedì Rò e martedì quindi il 3-4 si fa Madrid e Barcellona il 5 magari si fa Rò e poi il giorno dopo ci sono Leeds e poi credo che rimanga Smackdown sì perché poi il 9 e il 10 sì poi rimane Smackdown praticamente in Inghilterra l'altro tour non so l'altro tour di Rò non vedo qui le date dove può andare quindi non lo so si potrebbe fare Madrid e Barcellona poi il taping a Manchester e poi non so sta fermo magari per le due date successive magari rimane in Europa per farsi i cazzi suoi e poi vediamo il 9 direttamente a Bologna o magari l'annuncio dappertutto il tour può anche possono anche annunciare dappertutto il tour sì infatti vabbò vabbò altre cose comunque se volete volete prendere i biglietti per il tour autunnale della WWE li trovate su TicketOne sia per l'altra di Bologna che per l'altra di Roma vediamo se tra l'altro ci sono aggiornamenti per vediamo la situazione dei biglietti ovviamente i biglietti ce ne sono ancora tantissimi tra l'altro non ci sono notizie per quanto riguarda eventuali biglietti VIP uno dei commentatori Sky ha detto che la WWE comincerà a vendere per i fatti suoi mi sembra strana questa cosa non so se cioè è una cosa che ha detto direttamente gli organizzatori cioè che adesso la WWE praticamente venderà lei i biglietti sul loro sito su WWE.com per quanto riguarda i biglietti VIP anche degli outshow anche italiani mi sembra molto strana questa cosa perché comunque non lo fa mai la WWE questa cosa quindi mi non so non so se questa cosa meriti considerazione comunque la voce ufficiale dagli organizzatori è questa se qualcuno da Alessandro Galli ci sta ascoltando e vuole confermare questa cosa ovviamente ovviamente siamo ben disponibili comunque biglietti ce ne sono ancora tantissimi sto vedendo adesso sul sito di Bologna Bordoring c'è ancora poco Bordoring c'è ancora poco però primo settore settore anche extra è praticamente tutto a disposizione per quanto riguarda io speravo in SmackDown a sto giro però di nuovo lo ci tocca eh no per quanto riguarda invece Roma vediamo un pochettino com'è la situazione dei biglietti eh no c'è anche Bordoring qualcosa adesso non prime file però settima, ottava, nona fila ci sono a meno che non siano i posti che effettivamente andranno in vendita poi in seguito con i biglietti VIP quelli delle prime file che non vedo in questo momento in vendita per rate di Bologna Roma va buono altre cose da segnalare non credo di averne per questa per questa settimana non so se tu hai qualcosa da aggiungere di particolare no no non c'è niente da dire non abbiamo più nulla da dire tanto quello che abbiamo detto infatti stavo cercando una foto di Bushy che sto cercando da ieri mi ha fatto ieri ero su un sito con una chat e mi ha fatto un sacco di ridere la tagline del main event quale? gays vs money gays vs money? la gimmick dei golden lovers effettivamente da quest'idea che abbiano una relazione esatto poi che non c'è niente assolutamente di male però hanno questa gimmick si si basa molto sull'amiguità questa cosa ti sto mandando uno spot meraviglioso lo vedrai tra qualche istante direttamente su discord è una cosa più insensate che ho visto negli ultimi tempi però vabbè lo vedrai poi tra non molto stavo cercando una foto di Bushy molto molto bella che che ho trovato ieri c'è scritto è meraviglioso arriva dal Messico questa cosa ovviamente comunque dicevo stavo cercando stavo cercando come si dice dovevo troppo mandare a un mio amico adesso bellissimo stavo cercando diciamo una foto una foto diciamo di lo spiego un attimo perché poi sembra che ridiamo è questo che fa uno spot con una scala questo fa un moonsault con una scala in mano solo che quando a terra la scala si apre e si si fa un male cane si esatto meraviglioso noi non è che si fa male però non so cosa volesse fare perché non c'è nessuno lì nel raggio di 20 km non so veramente cosa stai cercando di fare sai cosa una cosa il fatto che tu mi abbia specificato che in Messico l'avevo capito subito che erano in Messico solo in Messico fanno questi spot questi spot assurdi sì sì no non trovo la foto di bushing solo in Messico possono fare uno spot così stupido sì no niente vabbè comunque tornando a noi gli appuntamenti che diamo questa settimana il poshò dovrebbe essere mercoledì mercoledì sì però potrebbe anche non essere mercoledì se io e altri andiamo a vedere la partita di basket di Milano perché c'è la finale gara 5 alla media non form e potremmo andarla potremmo andarla a vedere ma non spero che non ci andate perché mi dovete tenere compagnia bastardo male che vada potrebbe essere giovedì o ci sentiamo direttamente nel caffè al momento non lo sappiamo poi il prossimo weekend tra sabato e domenica invece ci ritroveremo con il wrestling caffè per la preview di scusatemi la preview di di money in the bank e anche bonifico in the bank esattamente esattamente per parlare anche delle cose successe in questa settimana grazie a Mattia di noi grazie a voi ci sentiamo nelle prossime puntate e poi il sabato per il caffè dove parleremo anche di Luciano del Gran visto che ricominciarà anche Luciano del Gran grazie per averci ascoltato fino a questo momento ci sentiamo come detto in settimana rimanete con tuttoresti.com alla prossima ciao 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 Grazie.